Signore e signori buongiorno a tutti e vi ringrazio molto per la vostra presenza e saluto anche coloro che ci seguono da remoto. Questa è una bella occasione per fare il punto su alcune questioni controverse di diritto amministrativo. Nell'ambito di una tradizionale collaborazione con l'Accademia i giudici amministrativi prendono spunto dalle riflessioni dei convegni per verificare la tenuta di alcuni principi e anche per verificare come possano essere perfezionate alcune tecniche di tutela. Negli ultimi 40 anni, diciamo, da l'entrata in vigore della legge dell'82 e la 186, molti istituti processuali sono stati rivoluzionati, molti istituti sostanziali sono subentrati, pensate alle interdittive antimafia, 40 anni fa neanche se ne parlava. Quindi si tratta di tematiche tutto sommato recenti che non hanno enormi tradizioni giuridiche e che ancora oggi danno luogo a molte questioni controverse, non solo di rilievo costituzionale. La presentazione di questo libro è molto preziosa perché ci consente di fare il punto anche con questo interessantissimo dialogo tra i magistrati amministrativi e gli appartenenti all'Accademia. Io non vorrei sottrarre spazio agli illustri relatori, ci sono i coordinatori che vedete al mio fianco e mi riserverei soltanto in via di tutto eccezionale di dire due parole qualora ascoltassi delle proposte di soluzione che magari hanno visto nella giurisprudenza questioni risolte diversamente. Quindi io vi ringrazio e passerò la parola al consigliere Santise. Grazie Presidente, un saluto a tutti. Questo incontro è stato pensato proprio in una prospettiva di confronto tra giurisprudenza e Accademia. Volevo un attimo semplicemente dettare i tempi della mattinata perché abbiamo tanti interventi, questioni molto complesse, servirebbe una giornata per ciascuna questione probabilmente e quindi l'idea è cercare di chiudere l'area tematica di riferimento in 40 minuti, 45 minuti, quindi una ventina di minuti al relatore, cercando di dare poi spazio al dibattito che sicuramente avrà la sua rilevanza. Dicevo i temi da esaminare sono molto complessi. Nasce questo incontro dal libro della giustizia amministrativa che l'ufficio studia ha curato e che ha una sezione, la quarta, proprio dedicata alle questioni controverse in diritto amministrativo. Ne trovate tante oggi. Iniziamo e apre la giornata, forse il tema dei temi sul rapporto procedimentale e responsabilità della pubblica amministrazione che ha visto tante sentenze delle sezioni della Corte di Cassazione e tante sentenze anche dell'adunanza al penale del Consiglio di Stato, ma come tutti quanti sappiamo nonostante ciò la concordia non si è ancora trovata perché il contrasto resta. Non mi resta quindi che dare la parola al nostro coordinatore dell'ufficio studi, Consigliere di Stato Vincenzo Neri che aprirà i lavori di oggi. Grazie. Grazie Presidente, grazie Maurizio. Allora qualche istante per diciamo promozione dell'ufficio studi. Naturalmente uno spot pubblicitario per l'ufficio studi è sempre necessario e con molto piacere che partecipo a questo incontro che è il primo incontro che organizziamo in presenza dall'ottobre 2020. Quindi dal mio punto di vista è anche ben augurale per quanto riguarda insomma il superamento della pandemia che ci ha molto segnato. Voi sapete che l'ufficio studi si occupa di tante cose. Quella della formazione e dell'aggiornamento dei magistrati amministrativi è una delle tante attività che svolge. In realtà rilascia pareri al Consiglio di Presidenza, al Presidente del Consiglio di Stato, ma si occupa anche degli scambi tra i magistrati e naturalmente cura anche la rassegna delle novità giurisprudenziali. Certamente tra gli aspetti più qualificanti dell'attività dell'ufficio studi c'è quello della organizzazione dei corsi di formazione per i magistrati appena assunti e quello dei convegni e dei corsi naturalmente per l'aggiornamento, ma oltre che per l'aggiornamento anche per il confronto tra magistrati e soprattutto, ed è questo il caso di oggi, il confronto tra magistrati e Accademia. Perché non dobbiamo dimenticarci che evidentemente il confronto tra gli appartenenti alla magistratura e l'Accademia è uno degli aspetti più importanti del nostro essere giudici. Fatta questo piccolo spot a favore dell'ufficio studi, passerei subito a parlare del tema che ci è stato assegnato. Senza però dimenticare di ringraziare i colleghi dell'ufficio studi, in particolare il collega Maurizio Santise e il collega Nicola Durante che hanno molto diciamo fatto per l'organizzazione di questo corso, ma anche tutta la segreteria che si è molto impegnata per la buona riuscita del corso stesso. Bene, il tema del rapporto procedimentale della responsabilità della pubblica amministrazione con riferimento ai profili di giurisdizione è un non tema che è stato, come tutti voi sapete, al centro del dibattito e è stato oggetto di diversi interventi da parte della giurisprudenza, ma c'è stato anche un vivace dibattito in dottrina. La questione è questa, qual è la natura giuridica della responsabilità della pubblica amministrazione? La responsabilità a natura aquiliana e dunque rientra nello schema dell'articolo 2043 oppure a natura contrattuale da contatto qualificato? Come a tutti noi noto la questione è stata affrontata da una recente decisione dell'adunanza plenaria, esattamente la decisione numero 7 del 2021 che, come è noto, ha aderito all'orientamento tradizionale. Orientamento tradizionale nel senso della natura aquiliana della responsabilità della pubblica amministrazione e tutto sommato è un orientamento tradizionale che affonda le sue radici nella sentenza 500 del 1999 che, diciamo così, dà per scontata la natura aquiliana della responsabilità della pubblica amministrazione e in tutta la precedente giurisprudenza, si va di bene, del giudice ordinario. Vorrei individuare i grandi pregi della sentenza 500 del 1999 premettendo che, a mio avviso, però, la questione formalmente risolta dall'adunanza plenaria probabilmente merita un ripensamento. I grandi pregi della sentenza 500 del 1999 sono questi, essenzialmente tre o quattro. Dopo la sentenza 500 del 1999 è indiscutibile che cambia la stessa nozione di interesse legittimo. La cosa più importante di questa sentenza è che definitivamente si squarcia il velo che si frapponeva nella tutela giurisdizionale tra cittadino e pubblica amministrazione e si conferma l'esistenza del rapporto giuridico-amministrativo e poi, diciamoci le cose per come stanno, è chiaro che questa sentenza 500 del 1999 è quella che poi ha dato l'astura a una grande stagione di riforme. La legge 205 del 2000, a distanza di un anno esatto, ma poi la legge del 2005 sullo statuto del provvedimento amministrativo e infine, e certamente non meno importante, il codice del processo amministrativo con l'introduzione di un armamentario a disposizione del giudice amministrativo che evidentemente rende la tutela effettiva. Ora, la tesi tradizionale si fonda essenzialmente sul fatto che nel rapporto tra privato e pubblica amministrazione, anzi che il rapporto tra privato e pubblica amministrazione non è un rapporto obbligatorio. Non c'è un'amministrazione che è debitrice di una prestazione nei confronti del cittadino o del privato che diventa creditore di una prestazione. E allora, nella sistematica del codice civile, mancando un rapporto obbligatorio, la responsabilità non può che essere aquiliana. In altri termini, il codice del 42 conosceva due tipi di responsabilità. O quella contrattuale ex articoli 1218 e seguenti, o quella aquiliana. Quella contrattuale si poteva, diciamo, configurare quando vi è un rapporto obbligatorio. Se manca il rapporto obbligatorio, la responsabilità non può che essere aquiliana. E quindi, da questo punto di vista, si comprende benissimo il punto di vista della Cassazione nel 1999, quando opta per la natura aquiliana della responsabilità tra privato e pubblica amministrazione. E della responsabilità della pubblica amministrazione nei confronti del privato. Però, devo dirvi che la sentenza del 1500 e del 1999 è anche datata storicamente al 1999, non tiene in considerazione ciò che è avvenuto in questi 23 anni quasi. Perché in questi ultimi 23 anni la Corte di Cassazione ha sviluppato quello che possiamo a tutti gli effetti qualificare un diritto vivente e cioè in tanti settori ha parlato di responsabilità da contatto qualificato. E allora, se questo è vero, io penso che ci siano tre ragioni per cui si continuerà a parlare di questa questione e probabilmente si potrebbero, diciamo, individuare alcune tematiche che auspicabilmente potrebbero farci ritornare sullo problema. La prima ragione che potrebbe, diciamo, indurre il giudice amministrativo a ripensare alla soluzione sta nelle adunanze plenarie numero 19, 20 e 21. Sono le adunanze plenarie che hanno trattato dell'affidamento anche sotto il profilo del riparto di giurisdizione. Per una ragione che, se mi consentirete, vi dirò tra qualche istante. La seconda ragione per cui, a mio avviso, è necessario rivedere il tema e probabilmente optare per la natura contrattuale da contatto qualificato della responsabilità della pubblica amministrazione sta nel fatto che nel 2020 è stato modificato l'articolo 1 della legge 241 del 90 attraverso l'introduzione del comma 2 bis che stabilisce espressamente per l'amministrazione l'obbligo di rispettare i principi della collaborazione e della buona fede. Mi soffermerei molto su questo aspetto, sull'obbligo di buona fede che è stato positivizzato nel 2020. Vi è una terza ragione che, a mio avviso, impone la necessità di ripensare a questi temi. Ed è questa. Il 1999 è un anno importante. È un anno importante per la sentenza 500 del 99, ma è un anno importante perché nello stesso 99, a marzo, viene pubblicata una sentenza, la 589, che, parlando della responsabilità del medico, prima che evidentemente intervenisse la legge Gelli Bianco, ha ritenuto che la responsabilità del medico fosse una responsabilità contrattuale da contatto qualificato, dando inizio ad una stagione che ha portato la Corte di Cassazione a riconoscere la responsabilità contrattuale da contatto qualificato in una serie molto vasta di casi. E quindi, diciamo, come vedremo in vari casi, per la responsabilità del banchiere, dell'insegnante, del mediatore e via dicendo. Ma soprattutto, a mio avviso, quella tesi della natura aquiliana della responsabilità potrebbe oggi essere facilmente superata perché sono venute meno, e ne parlerò tra qualche istante, e lo metto tra virgolette, le ragioni pratiche che avevano condivisibilmente indotto la giurisprudenza nel 2005 a ritenere aquiliana la responsabilità della pubblica amministrazione. Provo ad argomentare, iniziando da una minima citazione, cioè l'autore è uno dei più grandi civilisti e mi riferisco a Castronovo, è una citazione presa da uno scritto di Castronovo del 1995, lo scritto si intitola L'obbligazione senza prestazione ai confrini tra contatto e torto. Castronovo, sapete, allievo di Mengoni, sostenitore della tesi del rapporto contrattuale di fatto, insomma, è chiaramente uno dei massimi civilisti del XX secolo, Castronovo, ravvisa in quello scritto una relazione giuridica anche nelle ipotesi ulteriori rispetto al rapporto obbligatorio classico. Ravvisa una relazione giuridica non solo quando vi è un vero e proprio rapporto obbligatorio per cui c'è un debitore che deve eseguire una prestazione in favore del creditore, ma anche nelle ipotesi in cui vi è una relazione qualificata. Per Castronovo, se vi è una relazione qualificata, se le parti che si trovano una davanti all'altra si trovano in una dimensione formale, ossia disciplinata da regole, principi, norme, allora ci può essere una obbligazione senza prestazione. E l'obbligo di prestazione, ecco qui a mio avviso è il punto cruciale, l'obbligo di prestazione si trasforma in un obbligo di relazione. E guardate, obbligo di relazione che conseguentemente porta a riferirsi allo schema della responsabilità contrattuale, ai sensi degli articoli 1218 e seguenti, e non fare più riferimento alla responsabilità aquiliana, di cui all'articolo 2043. Un caso classico per la dottrina tedesca, e ora anche per la nostra giurisprudenza, per la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è quello della responsabilità precontrattuale. Le parti che sono impegnate in una trattativa, evidentemente non si devono reciprocamente delle prestazioni, perché ancora il contratto non c'è e quindi non sono nate obbligazioni nel senso vero della parola, però hanno l'obbligo nella fase delle trattative di comportarsi secondo buona fede. E allora questo obbligo di comportarsi secondo buona fede, pur non creando un obbligo di prestazione, crea un obbligo di relazione, che prima per la dottrina, ma oggi anche per la giurisprudenza della Corte di Cassazione, genera una responsabilità di natura contrattuale da contatto qualificato. E allora, se questo è vero, se la tesi della responsabilità contrattuale da contatto qualificato nasce con riferimento a parti che pur non dovendosi reciprocamente prestazioni, comunque hanno un obbligo di relazione, di comportarsi secondo buona fede, perché oggi non possiamo utilizzare questa medessima teorica nei confronti della responsabilità della pubblica amministrazione? Oggi che il comma 2 bis dell'articolo 1 della legge 241 del 90 espressamente impone nella attività procedimentale e provvedimentale l'obbligo di rispettare i principi di lealtà e correttezza, la buona fede, peraltro corollario del dovere di solidarietà di cui all'articolo 2 della nostra Carta Costituzionale. Penso che il mio, come possiamo dire, la mia opinione sia abbastanza chiara. Vorrei impiegare gli ultimi minuti che restano a mia disposizione per individuare le possibili ragioni a sostegno di questa tesi, oltre a, voglio dire, la descrizione di carattere teorico. Le ragioni possono essere diverse, ne ho individuate cinque. La prima, oggi, vabbè, oggi, diciamo da diversi decenni, il procedimento amministrativo è centrale nell'attività amministrativa. Nessuno, spero, dubbiti che la relazione, e utilizzo, voglio dire, intenzionalmente questo termine, che si staura nella fase del procedimento amministrativo è una relazione qualificata e un contatto qualificato. È chiaro che dal procedimento non nasce un obbligo per l'amministrazione di eseguire una prestazione, ci mancherebbe, però, ha un obbligo di rispettare specifiche regole di azione amministrativa e dunque di relazione e, più in generale, appunto, la lealtà e la correttezza. Vi dico un'altra cosa. Ora, scusatemi, io lo vado dicendo dal 2004, ricordo di essere stato, per così dire, benevolmente ripreso dall'allora Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente De Roberto, che poi, peraltro, Presidente alla plenaria, che qualificò la responsabilità in termini aquiliana. Diciamo, io personalmente ho la mia idea, e cioè che la violazione delle regole del procedimento e la violazione delle regole sul provvedimento è una violazione più specifica rispetto alla violazione della generica regola del Neminem Leder. Il danno cagionato dalla pubblica amministrazione al privato, personalmente, però, per carità, sono mie modestissime opinioni, è un danno molto diverso dal danno che cagiona l'automobilista tamponando l'automobile che lo precede. Io, scusatemi, su questo penso, non riesco a convincermi del contrario. La responsabilità aquiliana viene definita dai classici la responsabilità del passante. proprio a mettere in luce il fatto che non solo c'è un rapporto obbligatorio, ma che si tratta appunto della violazione del generico dovere del Neminem Leder. Nel caso della relazione tra privata e pubblica amministrazione, penso che ci sia qualcosa di più. Terzo argomento. Vi dicevo che la Corte di Cassazione, proprio dal 1999, ha dato vita ad un vero e proprio diritto vivente sulla responsabilità da contatto qualificato. E lo ha fatto nel 99 con la sentenza 589 a proposito della responsabilità del medico. Problema oggi risolto dalla legge Gelli Bianco. Ma poi lo ha detto a sezioni unite per la responsabilità dell'insegnante, per la responsabilità del banchiere, poi a sezioni semplici per la responsabilità del mediatore. In altri termini, se vogliamo trarre un filo conduttore comune, ogni qualvolta, pur mancando un obbligo di prestazione, vi è una relazione qualificata in cui una delle parti svolge un'attività di carattere professionale, il medico, l'insegnante, il banchiere, il mediatore, si può parlare di responsabilità da contatto qualificato e dunque avvicinarci alle regole degli articoli 1218 e seguenti e non a quelle dell'articolo 2043. Peraltro, ragionando in questo modo, diventa anche coerente la giurisprudenza nostra del Consiglio di Stato che presume la colpa della pubblica amministrazione. La presunzione di colpa è più vicina alle regole di cui agli articoli 1176 e 1218 del Codice Civile che al combinato disposto degli articoli 2043 e 2697 del Codice Civile stesso. coloro i quali sostengono che la responsabilità debba necessariamente essere aquiliana hanno una giustamente diciamo portano avanti un argomento di carattere letterale. L'articolo 2bis della legge 241 ma anche l'articolo 30 del Codice del processo amministrativo parlano di danno ingiusto utilizzando la stessa locuzione che viene utilizzata dall'articolo 2043. Per questa ragione si ritiene che implicitamente il legislatore abbia voluto ragionare in termini di responsabilità aquiliana. Io non so che cosa pensasse il legislatore probabilmente diciamo vabbè non so cosa pensasse il legislatore però facendo un'altra citazione e ricordando con grande affetto il compiando professor Bianca quando noi parliamo di danno ingiusto in realtà non necessariamente ci riferiamo all'area aquiliana della responsabilità danno ingiusto è una locuzione di carattere generico cito Bianca si ha danno ingiusto quando viene leso un interesse giuridicamente protetto nella vita di relazione e questa definizione di danno ingiusto un civilista del calibro di Bianca l'ha riferita non solo alla responsabilità aquiliana ma anche a quella contrattuale e allora avvicinandomi alle conclusioni queste considerazioni che sono state svolte possono essere come possiamo dire derubricate in semplice magari interessante esercizio accademico penso di no sia perché voglio dire ciò che ho ora detto in realtà in questa stessa sala lo sostengo nel 2019 ma anche perché ritengo che noi come giudici amministrativi non possiamo non considerare che ormai dal 2016 la Corte di Cassazione anche a sezione unita ricordo una sentenza dell'aprile 2020 ha qualificato la responsabilità della pubblica amministrazione come da contatto qualificato e mi fa piacere citare questa sentenza delle sezioni unite del 2020 non condivisibile sotto altro aspetto perché effettivamente diciamo riprende tutta una serie di considerazioni che molto più modestamente avevo già svolto proprio in quest'aula nel 99 nel fare un convegno proprio sui 20 anni della sentenza 500 500 nella mia attività diciamo di giudice amministrativo ho sempre pensato che prima di firmare una sentenza è importante chiedersi quali possono essere le conseguenze della decisione sull'attività amministrativa e sulla sfera del privato e allora proviamo a verificare se un eventuale diciamo mutamento di indirizzo abbia un impatto devastante o se abbia vantaggi o svantaggi ha un impatto devastante beh guardate il giudice amministrativo tentò di qualificare la responsabilità della pubblica amministrazione come da contatto qualificato nel 2003 ma il 2003 era un'era geologica fa era un periodo molto lontano rispetto a quello attuale perché quando nel 2003 il giudice amministrativo la qualifica come da contatto qualificato e la riconduce agli articoli 1218 e seguenti significa individuare un regime giuridico molto più favorevole al privato e meno favorevole alla pubblica amministrazione perché si applicano le regole in tema di prescrizione in tema di onere della prova di elemento soggettivo previste dal codice civile e quindi non quelle diciamo meno favorevoli per il danneggiato previste dalla responsabilità aquiliana ma quelle più favorevoli per il danneggiato previste dalla responsabilità contrattuale questo nel 2003 oggi in realtà la disciplina a prescindere che noi la qualifichiamo come aquiliana o da contatto qualificato è esattamente scolpita agli articoli 7 e 30 del codice del processo amministrativo e quindi tutte quelle conseguenze diciamo così negative per l'amministrazione cui certamente pensava il giudice amministrativo la plenaria a metà degli anni nel 2005 oggi non ci sarebbero più perché a prescindere da come la si qualifichi la disciplina è ben scolpita all'articolo 30 del codice del processo amministrativo quali potrebbero essere i vantaggi di diremmo così ripensare e optare per la natura contrattuale da contatto qualificato beh dal mio punto di vista il vantaggio potrebbe essere quello di ricondurre a coerenza tutte le decisioni dell'adunanza plenaria 19, 20 e 21 le decisioni dell'adunanza plenaria 19, 20 e 21 sull'affidamento sono delle decisioni che io diciamo nel mio piccolo mi sento di condividere perché dettano uno statuto completo dell'affidamento stabiliscono come diciamo ho sempre sostenuto anche iscritti di qualche anno fa stabiliscono che l'affidamento non è un'autonoma situazione giuridica soggettiva e dunque una situazione giuridica soggettiva che nel dubbio si deve assimilare al diritto soggettivo stabiliscono che l'affidamento è un principio generale che si può riferire ora al diritto soggettivo ora all'interesse legittimo e allora se così è così ha detto la plenaria 20 del 2021 al paragrafo 5 valorizzare l'affidamento che è un corollario dell'obbligo di buona fede il quale a sua volta è corollario del dovere di solidarietà sociale significa valorizzare questa relazione qualificata che c'è tra privato e pubblica amministrazione e a quel punto diciamo far ruotare tutto attorno a questo obbligo di buona fede definitivamente sancito nel 2020 e questo obbligo di buona fede non può essere derubricato come si faceva negli anni 50 a un principio etico e morale che al più serviva ad colorandumo nel valutare la responsabilità del danneggiante questo obbligo di buona fede diventa centrale e a mio avviso anche nella ricostruzione della natura giuridica della responsabilità della pubblica amministrazione ci sarebbero molte altre cose da dire e probabilmente da approfondire una per tutta per esempio quella del risarcimento del danno legato esclusivamente alla lesione del bene della vita finale oppure estesa anche alla possibile lesione di beni intermedi però mi fermo davvero qui perché grande dal mio punto di vista ma penso che sia una cosa condivisa è il desiderio di sentire uno maestro del diritto amministrativo quale il professor Scocca ecco io ho finito e vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie al consigliere Neiri che ci ha dato la sua versione la sua diciamo ricostruzione sulla responsabilità da contatto sociale io ho due parole proprio su questo aspetto perché invece diamo subito Pepe a questo dibattito a me l'estensione alla responsabilità della piada della responsabilità da contatto non l'ha mai convinto fino in fondo per ragioni anche storiche perché Vincenzo ha citato la dottrina tedesca il primo mi sembra che abbia parlato di responsabilità da contatto è stato Mesh D'Aid che in fine 1800 scrive proprio le obbligazioni senza prestazione Castronovo applica in Italia questa teoria che però ricordo che Castronovo diceva c'è un'area di turbolenza tra la responsabilità del passante e del nessuno quella culiana e la responsabilità contrattuale un'area di turbolenza che richiede una sistemazione e quindi crea forgia questa teoria del contatto sociale come a dire la responsabilità della contatto sociale sembra quasi un'eccezione che dobbiamo trovare laddove non sia possibile inquadrare la responsabilità negli schemi extracontrattuali o contrattuali applicarla alla responsabilità della pubblica amministrazione sapendo la rilevanza che il procedimento oggi ha nel nostro ordinamento vorrebbe dire trasformare tutte le posi di responsabilità della pubblica amministrazione in responsabilità contrattuale questo è un aspetto del problema secondo l'articolo 1,2 bis che molte volte viene citato la legge 241 che anche oggi vedremo tante volte probabilmente io sarò impopolare a me questa novità normativa secondo me non ha aggiunto nulla di nuovo rispetto al passato mi sembra una come dire come se il legislatore avesse detto non posso più negare l'esistenza perché ormai la giurisprudenza l'aveva accolto nell'articolo 1 nel comma 1 manca ad esempio riferimenti a principi fondamentali proporzionalità precauzione ma nulla nessuno potrà mai dire che questi non siano principi applicabili alla pubblica amministrazione quindi non penso che quest'ingresso nella legge 241 anche se particolarmente indicativo sia anche come sia risolutivo anche su questo aspetto ma naturalmente mi rimetto al professore Scoca che saprà sicuramente orientarci anche su questo aspetto grazie professore grazie per aver accettato il nostro invito può anche come è può anche stare lì se vuole ok buongiorno grazie per l'invito io devo dire subito che concordo che concordo perfettamente con quello che ha detto fino adesso il consigliere Neri tratterò anche io dei suoi argomenti cioè la natura della responsabilità e l'affidamento devo dire questo che diversamente da quello che ho appena sentito io ritengo che già la sentenza del 1999 della Corte di Cassazione non era una sentenza che rispondeva alla realtà di allora in realtà come tutti sappiamo la sentenza fu un tentativo della Cassazione di trattenere la giurisdizione in materia di responsabilità e questo evidentemente ha influito sulla correttezza della perché appunto per quello che si diceva la responsabilità da contatto era già conosciuta erano già non soltanto in dottrina ma anche in giurisprudenza tant'è vero che quasi contemporaneamente la stessa Cassazione poi ne ha preso atto quello che vorrei dire io però è che la adunanza plenaria che viceversa ha stabilito che si tratta della responsabilità dell'amministrazione deve essere costruita con una responsabilità aquiliana a mio avviso non è convincente non è convincente l'argomento sul quale si basa cioè la simmetria delle posizioni tra l'amministrazione e il privato cioè la simmetria delle posizioni tra coloro che partecipano al procedimento ma io credo che sia evidente che anche se ci sono posizioni asimmetriche questo presuppone un rapporto non è che lo elimina non è che lo sarà un rapporto diverso ovviamente da quello del rapporto paritario ma è comunque un rapporto e ancora io vorrei dire questo nel procedimento in cui l'amministrazione esprime che è il luogo dove si esprime il potere dell'amministrazione il luogo dove si elimina o si diciamo si esprime il confronto tra l'interesse pubblico e l'interesse privato la posizione dell'amministrazione proprio perché è preminente deve essere sottoposta a maggior ragione ai principi di correttezza e buona fede e quindi l'esistenza di un rapporto la è certamente ormai anche per legge ovviamente ma già prima la applicabilità al comportamento dell'amministrazione dei principi di correttezza e buona fede comporta necessariamente secondo me che ci si tratti di una responsabilità diversa dalla responsabilità quigliana cioè se c'è un rapporto non si tratta di responsabilità che interviene tra sconosciuti tra persone che non hanno un rapporto giuridicamente rilevante tra di loro e allora se c'è questo rapporto anche se questo rapporto non ha la consistenza del rapporto che nasce da un contratto è tuttavia un rapporto strutturato profondamente disciplinato giuridicamente e quindi è certamente ciò che serve per dire che c'è un contatto sociale qualificato vorrei poi dire un'altra cosa e direi il patrimonio comune del fatto che nel procedimento amministrativo non ci sono obblighi di prestazione ma ci sono soltanto obblighi di protezione ebbene io non credo che sia vero se l'amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento esplicito se l'amministrazione ha il dovere di adottare il provvedimento a termini che sono prefissati ma a mio avviso questi sono obblighi di prestazione non sono obblighi di protezione obbligo di protezione è per esempio di non poter aggravare il procedimento di dover rispettare l'affidamento del privato ma voglio dire teoricamente ci sarebbe forse un ostacolo a ritenere che il privato che partecipa che inizia che dà l'avvio al procedimento è titolare di un diritto soggettivo ad ottenere non il provvedimento favorevole ovviamente ma il provvedimento che conclude il procedimento secondo me bisogna distinguere c'è un interesse ad avere la conclusione del procedimento e un interesse ad avere il provvedimento favorevole l'interesse ad avere la conclusione il provvedimento conclusivo è un interesse che ha la consistenza del diritto soggettivo non ha la consistenza dell'interesse legittimo ma allora si può dire come mai c'è interesse legittimo al diritto soggettivo andiamo a vedere gli oggetti di queste situazioni soggettive il diritto ad avere il provvedimento conclusivo è un interesse strumentale ad avere il provvedimento favorevole o un passaggio obbligato non c'è niente che teoricamente imperisca che un diritto soggettivo sia strumentale o un interesse legittimo questa è ovviamente la mia idea ma insomma io credo che comunque sia vero questo o non sia vero questo certamente nel procedimento amministrativo esistono anche obblighi doveri di prestazione oltre che doveri di doveri di protezione passiamo all'altro argomento l'affidamento affidamento credo che sia certamente un tema molto complicato molto delicato soprattutto l'affidamento dell'amministrazione per quello che dirò poi ma prima mi vorrei occupare di questo contrasto profondo per il momento sembra non superabile di orientamento tra la Cassazione che afferma che le controversie relative alla violazione alla frustrazione dell'affidamento appartengono al giudice ordinario e viceversa l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che ritiene che le stesse controverse appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo ora secondo me ha torto la Cassazione mi permetto di dirlo così direi il mio convincimento la Cassazione fa un ragionamento molto particolare ritiene di poter individuare nel corso dello svolgimento del potere amministrativo gli atti che sono esercizio effettivo del potere e invece i comportamenti che non sarebbero esercizio del potere soprattutto quei comportamenti che danno adito al venire in essere dell'affidamento del privato ora a me sembra tutto sommato che nel procedimento amministrativo l'amministrazione ha soltanto il potere svolge soltanto il potere non ha altre non ha altre situazioni soggettive attive quindi tutto ciò che fa il comportamento insieme agli atti formali non è altro che espressione del potere non può essere altro che espressione del potere dell'amministrazione se così è veramente non si può comprendere come ci sia la possibilità di avere per ciò che attiene al comportamento che è nel procedimento dell'amministrazione una qualifica diversa da quella di comportamento che realizza il potere realizza svolgere il potere l'altra considerazione che fa la corte di cassazione che francamente a me teoricamente mi lascia un po' perplesso è il fatto che distingue le norme pubbliche e private in se stesse considerate anzi in relazione alla collocazione fisica del cosa a me sembra una cosa incredibile cioè dice siccome il principio di buona fede è nel codice civile appartiene all'ordinamento civile allora è una norma che non riguarda l'esercizio del potere in quanto dà potere pubblico in quanto dà allora a me sembra che questa l'idea che una norma di legge possa essere privata o pubblica a seconda di dove è collocata a me sembra una cosa fantastica insomma la natura della norma si rinviene a seconda del suo contenuto e soprattutto in relazione ai suoi destinatari se il principio di buona fede deve essere applicato anche dagli soggetti pubblici non si può dire che sia una norma di diritto privato è una norma dell'ordinamento generale questo fatto poi è stato questo argomento della Cassazione poi è stato superato fortunatamente con la modifica dell'articolo 1 della legge numero 241 finalmente il legislatore si è deciso a dire espressamente che e quindi voglio dire questa norma che era privata adesso diventa anche pubblica e quindi insomma siamo nell'ordinamento generale devo dire però che la Corte di Cassazione è quella bella sentenza che è la 82 36 del 2020 delle sezioni unite si fa forza sulla base di una sentenza della tunanza plenaria la 5 del 2018 e secondo me entrambe queste belle sentenze tutte e due belle sentenze sbagliano nel ritenere che la violazione dell'affidamento comporti una violazione di un diritto soggettivo la Cassazione fin dal 2011 riteneva che appunto l'affidamento riguardasse un diritto soggettivo il diritto al patrimonio all'integrità del patrimonio la sentenza della tunanza plenaria del 2018 non parla più di diritto all'integrità del patrimonio ma di diritto alla libertà negoziale per così dire perché si trattava di una ipotesi in realtà di responsabilità precontrattuale ma quello che vorrei dire io è che non si tratta mai di un diritto la situazione soggettiva che viene colpita dall'affidamento secondo me si può ritenere o una situazione soggettiva autonoma oppure una situazione soggettiva coincidente con quella che ha ad oggetto l'interesse sostanziale che cosa voglio dire che cos'è l'affidamento l'affidamento è un convincimento ragionevole a un certo punto cioè una persona che in relazione al comportamento altrui assume un certo convincimento questo secondo me è un fatto non è una situazione giuridica soggettiva anzi è un fatto psicologico se il comportamento che frustra questo convincimento questo fatto psicologico si ritiene che sia un fatto ovviamente illecito perché è contrario al principio di buona fede e allora però bisognerebbe vedere questo fatto illecito che cosa viola viola un'aspettativa come adesso dice la Cassazione un'aspettativa alla coerenza del comportamento dell'amministrazione ma questo significa in realtà riprodurre in termini assolutamente apparenti di situazione giuridica soggettiva quello che è il contenuto del principio cioè dire che c'è un'aspettativa al comportamento corretto dell'amministrazione significa dire che si applica il principio di buona fede niente più di questo quindi se noi vogliamo veramente ritenere che a seguito del convincimento ragionevole quindi dell'affidamento ci sia una si nasca un'aspettativa questa aspettativa non può essere di carattere così generico così astratto deve essere un'aspettativa concreta e l'aspettativa concreta c'è l'aspettativa concreta può essere o alla stabilità del provvedimento amministrativo nel caso in cui il provvedimento poi venga annullato che è l'ipotesi diciamo primigenia dell'affidamento dell'amministrazione oppure l'aspettativa quindi a che il procedimento si concluda con un provvedimento favorevole questo è l'oggetto dell'aspettativa che può essere che può essere lesa dalla frustrazione del 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 convincimento in cui consiste l'affidamento ma allora se così è a mio avviso se l'interesse effettivo è questo cioè o è la stabilità del provvedimento o è l'adduzione del provvedimento favorevole allora questi sono interessi che attengono all'interesse legittimo sono l'interesse legittimo quindi alla fine anche sotto il profilo delle situazioni che vengono lese dal provvedimento non si può dire che lede un diritto non si può dire che lede un'aspettativa in senso proprio è un'aspettativa psicologica cioè uno si aspetta è convinto di ricevere qualche cosa il vero ciò che veramente viene leso è o il diritto soggettivo quando però siamo tra privati o l'interesse legittimo quando il rapporto tra i privati è la pubblica amministrazione l'ultima questione che vorrei dire è che ho letto delle osservazioni molto interessanti sulla difficoltà che si possa configurare l'affidamento nell'interno del procedimento amministrativo cioè quella seconda formula che deriva sempre dalla Cassazione che ho citato del 2020 e per cui c'è un affidamento anche all'interno dell'amministrazione quali sono le considerazioni effettivamente che bisogna tenere presente la prima è questa che l'amministrazione si opera attraverso atti formali quindi un comportamento comportamento significa che non è un atto formale comportamento può essere per esempio l'atteggiamento di un funzionario ecco un comportamento è idoneo a costituire un convincimento ragionevole e a mio avviso bisognerebbe escluderlo perché se non si tratta di atti formali ovviamente non si vuole secondo tutto sta se c'è discrezionalità perché se non c'è discrezionalità ovviamente qualsiasi comportamento non può essere assolutamente significativo terzo è la cosa più importante direi quello che può interessare a coloro che si pongono in rapporto con l'amministrazione che aprono un procedimento amministrativo e che l'amministrazione sia collaborativa il principio che anche questo è stato inserito espressamente nell'articolo 1 della legge 241 è molto importante io non vorrei dato che il limite il confine la differenza tra comportamento che crea l'affidamento e comportamento collaborativo veramente molto delicato non vorrei che questa diciamo idea dell'affidamento possa portare l'amministrazione ad evitare un atteggiamento collaborativo grazie mille grazie professore grazie davvero per la profondità delle osservazioni peraltro penso un altro argomento per la diciamo teoria della giurisdizione amministrativa è anche difficile negare che il tutto sia collegato al potere amministrativo in ogni caso come ci diceva la corte costituzionale 204 del 2004 altro argomento che è difficile da superare da un attimo la parola al presidente Marotti che voleva aggiungere alcune osservazioni sì grazie certo argomento autonomo per un convegno personalmente credo che tutto sia nato da la grande commistione di questioni di giurisdizione e questioni di natura sostanziale effettivamente come ha detto il professore Scocca in sede di riparto della giurisdizione la corte di cassazione vuole affermare anche categorie giuridiche che dovrebbero vincolarci la seconda osservazione è che le sentenze della cassazione prima sezione che hanno affermato la natura contrattuale della responsabilità precontrattuale innanzitutto non hanno richiamato le sentenze delle elezioni unite che hanno sempre affermato la natura aquiliana della responsabilità precontrattuale e poi la sentenza del 2016 della prima sezione ha riportato forse per errore materiale l'orientamento della corte di giustizia perché la corte di giustizia non ha affermato la natura contrattuale della responsabilità contrattuale come ha erroneamente affermato la corte di cassazione perché la corte di giustizia nel 2002 nella sentenza del 15 settembre 2002 nella causa 334 del 2000 ha nettamente affermato la natura aquiliana della responsabilità precontrattuale quindi almeno si tenga conto di questo e non si ribalti la verità poi sulla sentenza 500 del 99 io sono ancora molto sorpreso che a distanza di 23 anni non ci sia non ci sia resi conto di ciò che è accaduto a causa di quella sentenza si è parlato molto di riparto della giuridizione si è parlato molto di quale giudice fosse competente o avesse giuridizione sulle domande di risarcimento con la teoria per cui se si impugnava l'atto chiedendo il risarcimento si andava al GA se invece si chiedeva la disapplicazione davanti al GIO cosa che al legislatore non poteva garbare e ci fu la legge 205 del 2000 malgrado la legge 205 del 2000 la Corte di Cassazione eseguì quello schema ma allora c'è stata la Corte Costituzionale 204 del 2004 c'è stata la sentenza anche 191 del 2006 insomma quella sentenza tra l'altro non ha tenuto conto di una ordinanza fondamentale che io non ho potuto dimenticare l'ordinanza veranata a Chieppa del maggio 1998 quella è un'ordinanza che andrebbe riletta perché preventivamente ha chiarito il quadro normativo introdotto dall'articolo 35 del decreto 80 del 98 ora i più anziani forse dei colleghi ma forse nessuno potrà ricordarlo nel 98 io ho scritto gli articoli 33, 34 e 35 del decreto 80 del 98 testo di cui detti spiegazioni in questa adunanza generale in quella adunanza generale e ci fu un dibattito notevolmente importante perché il decreto legislativo fu preceduto dal parere dell'ordinanza generale e in quella sede si dette un preciso significato anche all'espressione d'anni ingiusto dell'articolo 35 e magari in occasione di un convegno che si potrà fare vorrei testimoniare non credo che ci siano altri colleghi che possano ricordare quello che accadde in quell'occasione concludo perché non voglio togliere spazio ai relatori però io credo che la sentenza 500 del 99 sia stata emanata consapevolmente volendo dare il proprio contributo alle tecniche di tutela del risarcimento del danno in materia di interesse legittimo però non ha come dire tenuto conto del fatto che nel caso di specie vitali contro comune di Fiesole il giudice amministrativo aveva già annullato il provvedimento impugnato quindi tutto quell'obiter sulla disapplicapita dell'atto io ancora non ho capito perché ci sia stato inoltre c'era già stato il decreto legislativo 80 del 98 comichiarito dall'ordinanza della Corte Costituzionale 165 del 98 forse si potrebbe condividere anche chi disse in un convegno che era un'invasione di campo io non so se questa espressione si possa dire certamente però per anni quella sentenza non ha fatto noi giudici amministrativi ragionare serenamente nell'ambito della nostra giuridizione come dare tutela vera abbiamo parlato più di questioni di giuridizione che di tecniche di tutela io direi ora finalmente ora che abbiamo giuridizione dobbiamo riflettere appunto sulle tecniche di tutela perché come la Corte ci ha insegnato la Corte Costituzionale la tutela risarcitoria è un rimedio ulteriore all'interesse dato all'interesse legittimo io ho detto in un convegno precedente l'ultima frase che l'interesse legittimo ha avuto due miracoli dell'ordinamento il primo miracolo 1889 tutela all'annullamento secondo miracolo le leggi molto bene elencate dalla Corte Costituzionale del 98 del 92 del 95 del 96 del 98 che hanno dato tutela risarcitoria all'interesse legittimo per determinate materie la 205 del 2000 per ogni interesse legittimo questa è la verità che non è detta da me ma è detta dalla Corte Costituzionale con un filone di sentenze che peraltro prendono spunto dalla 5 del 1980 la 5 del 80 detto attenzione è la legge che pone le regole non può la giurisprudenza in questi casi affrontare una delicata materia che spetta solo il legislatore e da ultimo vi vorrei segnalare una frase estremamente ulteriormente significativa della Corte Costituzionale 1998 guardate come è stata dimenticata diceva che in assenza di una diversa regolamentazione del legislatore si può parlare della risarcibilità della lesione legata all'interesse legittimo solo nel caso di annullamento dell'atto amministrativo che costituisce un indispensabile antecedente logico giuridico Corte Costituzionale 165 del 98 siamo nel 2022 e ancora vorrei che questi principi si dovessero ritenere collaudati grazie grazie presidente tra quelle anche la 140 del 2007 che in realtà continua quel percorso questo dibattito tra diritto civile e diritto amministrativo mi fanno venire un po' in mente le parole di Pugliatti che nel 64 in una voce dell'incecropria giuridica proprio intitolata diritto pubblico e diritto privato diceva ogni crisi del diritto riconduce lo studioso alla distinzione diritto pubblico e diritto privato e diciamo questo inizio mi sembra diciamo che dia ragione all'autorevole studioso passiamo su altro versante su una questione che penso più divisiva tra giurisprudenza e accademia sia difficile trovarla anticipiamo l'intervento sulle questioni controverse in tema di interdittiva antimafia un mio amico giudice per le indagini preliminari vedendo la locandina mi ha detto guarda ma lo sai che ormai per le associazioni mafiuse la misura restrittiva del carcere come dire fa poco effetto perché ormai loro programmano la possibilità della misura restrittiva il vero effetto devastante è l'interdittiva antimafia e noi sappiamo che alla giustizia amministrativa al consiglio di stato dobbiamo la tastatività sostanziale quindi ha dettato regole analitiche su questo tema lascio do la parola al consigliere di stato Giulio Veltri che chiedo di rimanere al posto perché non possiamo più grazie io diciamo poiché gioco in casa lascerei invece il primo game al professor Perongini della speranza di pareggiare va bene ci invertiamo allora il professor Perongini volevo fare un piccolo ringraziamento perché si è sobbarcato l'organizzazione dal lato dell'accademia e quindi un ringraziamento al professor Perongini prego sono io che ringrazio tutti voi l'ufficio studi il presidente Marutti il consigliere il presidente Veltri il presidente Durante Santise Bonauro il presidente Neri per avermi consentito di partecipare a questo importante evento che naturalmente mi onora notevolmente il tema sul quale devo intervenire è quello delle interdittive antimafia partirei dagli ultimi recenti interventi del legislatore la legge 233 del 2021 mettendo in evidenza che questo intervento del legislatore introduce alcuni elementi di contraddittorio nel in quello che dovrebbe essere il procedimento che precede l'emanazione dell'interdittiva antimafia un contraddittorio eventuale postumo e tutto sommato irrilevante eventuale perché se si leggono le norme 92 e 94 bis è tutto lasciato alla decisione del del prefetto la comunicazione con l'indicazione degli elementi viene inviata se il prefetto ritiene che non ci siano ragioni di urgenza l'audizione è ancora un potere del prefetto la prevenzione collaborativa è anch'essa subordinata alla valutazione di occasionalità dell'infiltrazione antimafia ora postumo perché perché la decisione è stata già presa la valutazione della situazione di fatto è stata già assunta dal prefetto e la scelta di ammettere al contraddittorio è subordinata appunto a una valutazione di inconsistenza degli elementi sui quali fondare l'interdittivo insomma potremmo definirla una misura di rigor mortis dell'impresa per riprendere un'espressione che è stata che ha avuto un certo un certo successo è inconferente perché non sposta i termini della situazione come avviene ogni qual volta l'amministrazione adotta una decisione e poi interpella il destinatario della decisione stessa gli elementi di criticità del nuovo impianto normativo a mio giudizio vanno ravvisati innanzitutto nel fatto che la disciplina non precisa il rapporto esistente tra la contestazione il ruolo della difesa e la decisione con un meccanismo analogo a quello dell'articolo 10 bis e l'elemento diciamo di criticità più rilevante risiede a mio giudizio nel fatto di non aver concorso risolto il problema sostanziale di fondo vale a dire l'individuazione del momento in cui la criminalità organizzata traghetta l'impresa oltre la che ronte o lo stige come vi piace facendola approdare sulle spiagge infernali del tentativo di infiltrazione mafiosa tre sono i temi sui quali sarebbe opportuno riflettere quando c'è un tentativo di infiltrazione mafiosa quale è il potere che natura ha il potere devoluto al prefetto e qual è di conseguenza il sindacato che spetta al giudice amministrativo l'eventuale tentativo di infiltrazione mafiosa è stato interpretato dalla giurisprudenza amministrativa disancorando la figura dagli elementi tassativizzanti del tentativo penalisticamente rilevante e quindi consentendo questo obiettivo per l'esigenza di evitare prevenire il pericolo di infiltrazione mafiosa ma in questo modo disancorata dall'elemento della idoneità e della direzione non equivoca l'eventuale tentativo di infiltrazione mafiosa include in sé anche la mera possibilità e quindi non consente di distinguere fra le ipotesi in cui siamo nell'ambito della sfera del possibile e tutto è possibile dalla fase in cui la il tentativo l'infiltrazione raggiunge la fase del probabile quindi della concretizzazione dell'azione malavitosa in questo modo con questa concezione inclusiva si approda facilmente come si legge in alcune sentenze all'esigenza di prevenire il mero pericolo di tentativo di infiltrazione mafiosa ma il pericolo del pericolo è un non senso giuridico come è a tutti come a tutti noto il rifiuto di utilizzare insomma i parametri formulati dalla scienza del diritto penale che sono innanzitutto parametri logici non si giunse facilmente alla individuazione dell'elemento della idoneità e della direzione non equivocano della delimitare la condotta penalmente rilevante da quella che non lo era non consente appunto di distinguere le fasi iniziali del possibile dallo sviluppo successivo in cui il possibile diventa concreta probabilità di attuazione la giurisprudenza è consapevole di tutto questo per la verità risolve il problema ricorrendo alla funzione tassativizzante delle sue pronunce la individuazione di una costante serie di condotte idonee ad integrare l'impianto normativo la funzione appunto tassativizzante risolverebbe il problema ora questo tema in realtà è una questa soluzione è una trasposizione in sede amministrativa di un impianto fatto proprio dalla corte costituzionale in numerose pronunce la problematica del diritto vivente della funzione tassativizzante di alcune norme penali attraverso questo accorgimento tecnico chiamiamo così la giurisprudenza costituzionale ha evitato di sottoporre a sindacato di incostituzionalità diverse fatti specie penale come per esempio il disastro ambientale il delitto di atti persecutori e via di seguito ebbene sicuramente le soluzioni date dalla corte costituzionale avevano e hanno un loro senso la trasposizione invece nel diritto amministrativo a mio giudizio trova degli elementi di criticità il primo elemento di criticità va individuato nel fatto che il diritto vivente esplica la funzione tassativizzante in sede penale perché opera di concerto con due concetti cioè con il principio di offensività e con il concetto di bene giuridico offeso ma nel diritto amministrativo non opera né il principio di offensività né abbiamo il concetto di bene giuridico offeso aggiungerei inoltre che nelle fatti specie individuate dalle numerose sentenze della corte costituzionale nella norma c'è già una la norma già possiede uno dei connotati di determinatezza che attraverso la funzione tassativizzante della giurisprudenza vengono consolidati dal giudice quindi fra le diverse opzioni ermeneutiche quella e la giurisprudenza individua quella che ricorre nel caso di specie che consente di risolvere il problema di criticità costituzionale e quindi la funzione della giurisprudenza è una funzione meramente dichiarativa questo invece nella fatti specie penale naturalmente io parlo dell'articolo 84 quarto comma lettera D del codice antimafia fuori discussione i problemi di criticità si collocano tutti là non certo sull'altro versante delle ipotesi di informazioni antimafia tassativamente delineate dal legislatura nel diritto amministrativo il significato sia per la formulazione della norma che fa riferimento alle indagini del prefetto sia per questa scelta di disancorare il tentativo amministrativo dal tentativo penale e questo determina che la funzione della giurisprudenza diventa creativa della norma e questo naturalmente pone dei problemi di ordine costituzionale di non poco rilievo infine ultima questione ma questa diciamo è una considerazione abbastanza banale il destinatario della norma il destinatario della funzione tassativizzante è l'esperto del diritto l'interprete non il cittadino il cittadino è il destinatario di una norma che rimane tutto sommato incompleta il decalogo individuato dalla giurisprudenza qui occorrerebbe aprire un interessante dibattito ma il tempo non ce lo consente indica una serie di elementi che sono sicuramente elementi significativi come i rapporti familiari i legami tra le imprese e l'assunzione dei dipendenti paradossalmente per chi ha fatto nella sua esperienza un po' di prevenzione antimafia paradossalmente manca in questo decalogo quello che è l'elemento centrale quello che inchioda l'impresa al suo destino che è rappresentato dal denaro dal flusso del denaro il denaro da dove viene e dove va perché la mafia mica si muove per niente che non è un vizio della giurisprudenza si va di bene è un vizio delle informazioni antimafia che non coltivano questo profilo perché per carità è più facile il rapporto familiare l'anno stato di famiglia via di seguito non coltivano questo profilo che invece in tanti casi consentirebbe di risolvere il problema e infine per questo decalogo va detto un'ultima cosa come ha osservato in alcuni suoi lavori il consigliere nocelle e questi sono indici rivelatori di un tentativo di infiltrazione mafiosa sono meri indizi del tentativo di infiltrazione mafiosa ma se la funzione tassativizzante investe gli indizi noi che cosa tassativizziamo tassativizziamo il ragionamento probatorio non tassativizziamo le condotte e questo mi sembra l'elemento di criticità diciamo più rilevante nell'intero impianto normativo l'opera di specificazione condotta dalla giurisprudenza incide sul ragionamento probatorio e introducendo degli elementi tassativizzanti che però non apportano un contributo alla tassativizzazione bruttissima parola delle condotte secondo tema la natura del potere esercitato dal prefetto si legge nelle sentenze è diffusissima questa convenzione la troviamo scritta anche nella 57 del 2020 della corte costituzionale che il prefetto esercita un potere discrezionale in quella bella sentenza della terza sezione del consiglio di stato del 2019 la 6105 si legge che un passaggio diciamo di grande interesse lì dove si mette in evidenza che il pericolo di infiltrazione demarca la portata della discrezionalità del prefetto da intendersi non nel senso tradizionale di ponderazione comparativa di interessi dice la giurisprudenza ma nel senso di nel senso più moderno e specifico di equilibrato apprezzamento del rischio infiltrativo ora non ignoro che c'è una tendenza che investe soprattutto in vari settori del diritto ad estendere la discrezionalità ad ogni ipotesi di valutazione compiuta dal giudice penso al lavoro di Bricola penso agli studi di Raselli sul potere discrezionale del giudice civile penso ai più recenti interventi anche di Ferruccio Auletta su questo tema della discrezionalità oltre agli influssi d'oltre però però noi siamo qui nel Consiglio di Stato siamo amministrativisti per noi la concezione moderna della discrezionalità nel nostro paese nasce con lo studio di Giannini e con le sentenze del Consiglio di Stato sull'eccesso di potere che operano quella separazione tra discrezionalità intesa come comparazione di interessi e invece tutti gli altri criteri di valutazione come l'interpretazione come la discrezionalità tecnica come i concetti giuridici indeterminati e via di seguito rispetto ai quali non c'è comparazione di interessi ma c'è quello che è la normale attività ermeneutica posta in essere dall'interprete dal giudice ora se prendete l'esercizio del potere che compie il prefetto nell'emanare una informazione antimafia e spaccate questo capello in quattro in otto in quanto voi volete troverete sempre due passaggi fondamentali il primo passaggio è dato dalla individuazione del momento dall'individuazione dall'accertamento della esistenza di un fatto di infiltrazione quindi l'accertamento di un fatto e il secondo momento invece è dato dalla dal meccanismo di subsunzione se questo fatto corrisponde ai parametri della norma e quindi è il presupposto per l'emanazione di una informazione antimafia ora nel primo passaggio c'è una valutazione in ordine all'esistenza di un fatto si tratta di accertare valutare formulare un giudizio sull'esistenza di un fatto e quello che comunemente viene fatto negli uffici giudiziari da ogni giudice e che è sempre soggetto a sindacato tranne le limitazioni per quanto concerne il sindacato di legittimità della Cassazione per quanto concerne il secondo profilo è attività ermeneutica corrispondenza di un fatto ad una norma insomma quello che cerco di dire con difficoltà evidente è che nella valutazione che compie il prefetto non c'è nessuna valutazione comparativa di interessi allora se questo è vero il sindacato che spetta al giudice amministrativo non è un sindacato esterno e non è un sindacato di ragionevolezza ma è quel sindacato che tutti invocano e che ha fatto grande il consiglio di stato il sindacato di compiere cioè la funzione di compiere un sindacato penetrante incisivo volto a verificare se effettivamente quegli elementi integrano un fatto idoneo alla irrogazione di una informazione antimafia insomma non è un arretramento del giudice amministrativo che si chiede si chiede invece che il giudice amministrativo compia come ha fatto brillantemente durante tutta la sua storia quel sindacato che spiega perché noi oggi siamo qui perché senza le sentenze del consiglio di stato noi qui dietro non ci saremmo grazie grazie professore il nervo scoperto delle intellettive antimafie proprio su possibilità probabilità anticipazione eccessiva quando ha citato il pericolo del pericolo mi sono venute in mente le parole di mantomani un grande maestro di diritto penale che ci dice che il pericolo del pericolo getta un'ombra di impopolarità oltre che di incostituzionalità sul nostro ordinamento però lo dice in diritto penale mi domando se in diritto amministrativo questa ci sia la stessa logica visto che la funzione è obiettivamente sensibilmente diversa do la parola al consigliere di stato Giulio Velti che ringrazio per il suo intervento grazie sì e io immaginavo che la posizione del professor Perugini e dell'accademia generale fosse fosse critica però devo dire che l'informativa antimafia dà letta in una prospettiva diacronica nel senso che è stata frutto di un'evoluzione dell'ordinamento che l'ha vista partire come una misura di nicchia essenzialmente focalizzata sui rapporti contrattuali della pubblica amministrazione e consentitemi quando si parla di rapporti contrattuali ognuno sceglie il partner che ritiene lo facciamo nel privato ed è perfettamente ragionevole che l'amministrazione si scelga un partner immacolato questo non determina l'estinzione dell'impresa determina come dire una limitazione nella scelta in ordine a soggetti che sono e sembrano come dire appaiono immacolati e il problema si pone quando il legislatore incrociando un po' le norme estende l'ambito di applicazione dell'informativa anche alle autorizzazioni commerciali ed evidente che quando l'imprenditore fa una scia immaginiamoci un imprenditore di dirizia una scia per costruire delle vittime delle palazzine e gliela negano questo ha finito di esistere la giurisprudenza ha traslato come dire le linee giurisprudenziali invalse quando l'informativa era riferita ai soli rapporti contrattuali e le ha applicate anche a questa nuova e più ampia area è chiaro questo ha creato delle criticità perché adesso si parla di vita o di morte delle imprese però devo dire che il legislatore questa cosa l'ha compresa ed ora il sistema della prevenzione antimafia in relazione alla infiltrazione delle imprese va letta in una dimensione più ampia una dimensione che contempla non soltanto le informative antimafia amministrative ad effetto interdittivo ma contempla anche le misure di prevenzione penalie penale fanno sistema fanno sistema e bisogna leggerlo l'ordinamento in questa nuova visione sistematica e fanno sistema anche anche in ragione delle cose che dicevo dicevo prima il legislatore nel 2017 ha previsto ha previsto due misure due misure di prevenzione antimafia l'amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario sposto un po' il fuoco e l'attenzione su queste misure non perché voglia sottrarmi ovviamente al tema attuale ma perché voglio evidenziare che la prospettiva è e deve essere sistemica oramai e queste misure sono diciamo la prima la prima è tesa a sostituire l'imprenditore l'imprenditore a mezzo dell'amministrazione giudiziaria viene sostituito dall'amministratore giudiziario la seconda misura è il controllo giudiziario invece è una misura più soft perché vengono imposte all'imprenditore delle misure come dire di trasparenza occorre che l'imprenditore comunichi al nucleo di polizia tributaria gli atti di disposizione gli atti di pagamento ricevuti e effettuati gli incarichi professionali conferiti insomma tracci il denaro dia evidenza dei movimenti del denaro e poi è prevista anche la nomina di un amministratore giudiziario questa volta però non in funzione sostitutiva dell'impresa ma in funzione di monitoraggio e controllo l'amministratore segue come dire un supervisore per conto del giudice dell'andamento dell'impresa e riferisce dimestralmente al giudice ora queste due fatti specie in serie di prevenzione penale coprano l'intero arco della prevenzione antimafia cioè l'amministrazione giudiziaria è disposta quando il rischio è sostanzialmente conclamato è duraturo strutturato potremmo dire così il controllo giudiziario è disposto quando il rischio è occasionale diciamo questa intera area della misura di prevenzione di fatto si sovrappone all'area delle misure interdittive in serie amministrativa la differenza qual è è che mentre in sede di prevenzione penale esiste questo distinguo delle fatti specie infiltrazione strutturata infiltrazione occasionale nel caso della prevenzione in serie amministrativa la fatti specie è unica quindi che sia occasionale o che sia strutturata l'informativa antimafia può essere regittivamente emessa ovviamente è enormemente differente il piano degli effetti perché avrete compreso le due misure di prevenzione penale sono misure di carattere conservativo sì anche di effetto sostitutivo nel caso più grave ma conservativo e l'amministrazione può continuare la sua attività anche nei confronti dell'amministrazione quindi può partecipare da parte può continuare a vivere mentre nel caso dell'informativa antimafia gli effetti sono inibitori del rapporto con l'APA ma anche inibitori come dire del rapporto altamente inteso cioè inibitori della possibilità di chiedere utilizzazioni consustanziali necessari all'esercizio dell'attività e qui sostanzialmente significa effetto essenziale per l'impresa quindi è chiaro che visto dal lato delle imprese diciamo meglio essere colpiti dalla prevenzione antimafia penale che non dalla misura interdittiva amministrativa questa insomma è l'osservazione che si può fare in concreto in maniera abbastanza trasparente il legislatore consapevole che diciamo i due settori si sono sostanzialmente sovrapposti una sorta di tipico concorso di norme ha previsto che il settore della prevenzione penale prevale prevale su quello della prevenzione amministrativa e ha espressamente previsto in particolare che l'amministrazione giudiziaria ed il controllo giudiziario sospendano gli effetti dell'informativa e questo è diciamo una separazione una separazione attesta la separazione attesta la prevalenza dell'attenzione che il giudice penale compie in vista della prevenzione dell'informativa antimafia però il legislatore al contempo nel separare ha anche avviato un meccanismo osmotico che crea un osmosi cioè ha creato un ponte fra queste due aree fra questi due settori diciamo disciplinando un istituto che è abbastanza tipico anomalo perché non esistono misure penali o anche latamente penali che si possano domandare il legislatore ha previsto il controllo giudiziario a domanda a domanda significa che nel caso in cui l'impegnitore è attinto dell'informativa antimafia lui è legittimato a domandare al giudice il controllo giudiziario evidentemente sulla base della valutazione di convenienza rispetto alla misure amministrativa consapevole che il controllo giudiziario applicato sospenderà gli effetti dell'informativa antimafia quindi questo ponte questo ponte crea un rapporto fra i due settori e come dire li rende comunicanti diciamo che il controllo giudiziario a domanda assume una veste nuova così facendo perché al di là dei profili soggettivi banali insomma a domandarlo è il soggetto che chiede di essere colpito piuttosto che il procuratore e il pm diciamo la la cosa più rilevante l'ha detta la corte di cassazione per far capire che il controllo giudiziario a domanda è un'altra cosa perché la corte di cassazione ha spiegato dinanzi a un caso abbastanza curioso di un imprenditore che era stato attinto all'informativa aveva provato a difendersi nel giudizio amministrativo con scarso successo sia in sede di primo grado ed era andato davanti al giudice della prevenzione penale il quale andando in contrario avviso rispetto al giudice amministrativo riteneva che non ci fosse affatto il rischio infiltrativo e quindi gli ha negato il controllo giudiziario perché riteneva che questo fosse la persona pulita e però come dire questo né da una parte né dall'altra aveva trovato una qualche ancora di salvezza sicché la corte ha chiarito che quando il controllo è a domanda non c'è una sfera riservata di conoscenza di valutazione riservata al giudice della prevenzione penale come nel controllo giudiziario ufficioso no nel controllo giudiziario alla domanda l'antefatto è l'informativa e tale deve essere considerato il giudice amministrativo ciò che l'amministrazione ha fatto e ciò che il giudice amministrativo ha valutato o sta valutando è un antefatto che bisogna considerare esistente è sottoposto alla valutazione di altro giudice quindi se c'è quell'antefatto deve essere considerato sussistente anche il rischio infiltrativo e quindi alla misura si può accedere diciamo che alla luce di questa interpretazione vedete che l'ordinamento si evolve insomma non c'è nulla di certo alla luce di questa interpretazione ormai il quadro è abbastanza chiaro se io dovessi costruire il rapporto fra misure amministrative e misure di prevenzione penale direi direi che questo rapporto trova coerenza in una dimensione solo diacronica cioè si dice si deve dire che il provvedimento interdittivo fotografa il passato dice ciò che esistato e in base a ciò che esistato inibisce rapporti con la pubblica amministrazione il rapporto in generale con la pubblica amministrazione il controllo giudiziario le misure di prevenzione penale sono appartenenti a una dimensione dinamica dinamica cioè proiettata al futuro alla possibilità di bonifica di risalamento dell'impresa per rimetterla nell'economia legale e le misure quindi possono convivere possono convivere la seconda bonificante come dire strumentale a far venire meno gli effetti dell'informativa bisogna dire che il legislatore ha dimenticato di chiudere il cerchio perché non ci spiega cosa succede quando il controllo giudiziario termina l'informativa che rimane sospesa che fine fa diviene definitivamente quesciente oppure riprende i suoi effetti e che succede se l'informativa è confermata in giudizio la legge prevede che fin quando l'informativa è pendente si può andare a chiedere il controllo giudiziario ma se l'informativa viene definitivamente decisa in giudizio amministrativa cosa succede queste cose non ce le spiega però diciamo delle risposte sono arrivate dalla corte costituzionale ma anche dal giudice amministrativo la corte costituzionale ha spiegato che la questione non va drammatizzata perché l'informativa è a scadenza la corte costituzionale ci ha insegnato che oltre che essere preventiva è cautelare come il Consiglio di Stato ha sempre affermato la misura è anche provvisoria ciò significa che quel termine di un anno è un termine di scadenza ovviamente questa cosa ha fatto un po' preoccupare il Consiglio di Stato ha ripreso questo concetto di scadenza spiegando che non è che decade dopo un anno la misura ma legittima l'imprenditore attinto dalla misura a chiedere un esame che è obbligatorio fare per la Prefettura e che quindi se ci sono elementi nuovi o se quelli vecchi ormai hanno cessato di produrre un effetto contaminante la misura deve essere fatta bene e meno quindi nell'evoluzione il rapporto è un po' sistema e poi devo dire che la giurisdizione la giurisdizione amministrativa sta ponendo in essere un atteggiamento processuale di sospensione impropria diciamo del giudizio amministrativo in attesa del controllo giudiziario proprio per evitare frizioni contrasti contrasti queste due misure come dire danno coerenza a quel disegno che vi dicevo io di sintesi statica e dinamica in una prospettiva diacronica e le cose cambiano nel 2021 tutto questo che vi ho raccontato adesso è mutato è mutato perché nel 2021 nel novembre 2021 il legislatore preso atto dell'ampiezza di questo fenomeno considerate che le informative nel 2016 erano 560 nel 2020 siamo arrivati a 1800 è una dimensione cospicua e tra l'altro oggi con l'incremento enorme incremento degli appalti che gli inviene dal PNRR è ovviamente un fenomeno destinato ad allargarsi quindi il legislatore cosa ha fatto? ha fatto una cosa molto interessante devo dire che merita di essere esaminata merita di essere diciamo compresa e ha sostanzialmente copiato lo schema del controllo giudiziario e l'ha portato in serie amministrativa ha previsto cioè che quando l'infiltrazione è solo occasionale il prefetto non possa debba applicare la prevenzione collaborativa che nient'altro è che è un controllo giudiziario privo della componente amministratore giudiziario cioè un controllo che si risolve sostanzialmente nel mandare al gruppo interforze presso la prefettura competente tutti i pagamenti fatti ricevuti gli atti di disposizione nomine insomma le cose che abbiamo visto prima per il controllo giudiziario e in più impone questa è la vera novità impone l'applicazione della 231 del 2001 cioè di quei modelli organizzativi che sono tesi a prevenire l'infiltrazione dei funzionari e dei dirigenti e ad escludere che la società venga chiamata come corresponsabile in sede penale per gli illeciti penali dei propri dipendenti diciamo facendo questo passaggio che cosa succede? succede che ora in sede amministrativa l'amministrazione non ha più una sola uscita diciamo provvedimentale e ne ha due ne ha due ma questo non è un fatto banale perché cambia completamente gli scenari ora il sindacato del giudice amministrativo non è più un sindacato di sola come dire legittimità e l'eccesso di potere nei limiti della ragionevolezza della sussistenza dei presupposti e così via secondo lo schema del full jurisdiction che è invalso in sede giudizionale amministrativa no adesso il giudice amministrativo potrà fare un vaglio di proporzionalità cioè potrà dire la misura che è scelto è sbagliata perché qui l'infiltrazione è occasionale non è strutturata ora io non so come questa norma sarà applicata in sede amministrativa probabilmente diciamo per per l'esperienza no per l'esperienza che ho io immagino che i funzionari della prefettura diciamo avranno come dire facilità ad applicare il controllo giudiziario il controllo la prevenzione collaborativa più che l'informativa antimafia perché è una misura che fa capire che il funzionario si è mosso ha compreso il rischio eccetera eccetera e però è una misura che fa sopravvivere l'impresa comunque al di là di queste considerazioni pratiche e prognostiche e il dato centrale il dato centrale è proprio quello che vi dicevo e cioè che adesso i modelli provvedimentali sono due sono due sono diversi presupposti e quindi il sindacato muta ora ora la cosa nuova e chiudo perché altrimenti la faccio troppo lunga la cosa nuova è stimolante per diciamo per i nostri approfondimenti per le nostre valutazioni dottrinarie ancora in questa fase è che quando l'informativa antimafia viene emessa e continua a vigere il principio del ponte no? cioè che vi dico essere il profilo più problematico diciamo per la gestione della misura anche dal punto di vista del giudizio amministrativo continua a vigile il principio del ponte dell'osmosi tra queste due misure però questo principio secondo me comincia ad essere vacillante dal punto di vista logico e per due motivi perché il primo io l'amministrazione nel momento in cui dico che il soggetto è strutturalmente infiltrato e quindi applico l'informativa antimafia in luogo dell'alternativa possibile della collaborazione preventiva faccio come dire una scelta amministrativa ponderata se l'istante il serio imprenditore va di anzi al giudice della prevenzione penale e chiede il controllo giudiziario allora quello non è una misura dinamica di bonifica che si innesta nell'arco della misura statica no quella è una come dire valutazione indiretta indiretta della legittimità valutazione critica della legittimità del provvedimento amministrativo informativo antimafia perché il giudice amministrativo il giudice penale dirà qui l'infiltrazione non è strutturata ma è occasionale quindi farà una valutazione sui presupposti del provvedimento amministrativo e quindi sui presupposti di legittimità del provvedimento amministrativo primo motivo di crisi ma poi secondo motivo è che senso a continuare a prevedere un ponte quando è la stessa amministrazione a disporre del potere del controllo il luogo del potere dell'informativa perché mai passare nel sistema penale da quello amministrativo su domanda attraverso un istituto che è del tutto anomalo quando l'amministrazione ha il potere di riesaminare quegli atti con nuovi poteri con poteri molto più sfumati degli effetti e di carattere conservativo diciamo con queste considerazioni e riflessioni critiche io chiudo grazie grazie al consigliere Veltri ci hai dato mille spunti di riflessione che raccoglieremo dopo il dibattito tu non ci sarai dopo il dibattito che devi andare via una domanda quindi volevo porti se è possibile proprio con riguardo all'ultimo istituto dell'agevolazione se il prefetto emana dell'interdittiva antimafia non c'è nessuna traccia sulla valutazione di occasionalità o meno quindi non c'è nessuna valutazione è il ricorrente impugnare interdittiva sotto questo profilo noi giudici amministrativi che dobbiamo fare dobbiamo annullarla e restituire o dobbiamo valutare l'occasionalità cosa mi sono spiegato cioè dobbiamo ridare la palla alla pubblica amministrazione consentendole di riflettere oppure no se la questione è dubbio non lo so da quello che hai detto mi è venuto in mente questa domanda io farei prima rispondere l'avvocato e poi proviamo a fare faccia ricorso avvocato prego non vuole rispondere questo volete che sia annullata volete che no beh diciamo che qui è senz'altro come dire un difetto di istruttoria di motivazione mi pare abbastanza evidente nel senso che l'amministrazione deve dosare il suo potere che è un potere enorme dagli effetti essenziali con granosale ragione del principio di porzionalità se ha a disposizione due misure l'istruttoria deve essere attesa a verificare se l'infiltrazione è strutturata o è occasionale se l'amministrazione non lo fa quindi diciamo da ora in poi in ogni interdittima antimafia noi dobbiamo trovare una motivazione specifica sul punto guardate l'intervento del reggisatore è chiaramente indirizzato a depotenziare il sistema dell'informativa e a potenziare quella delle misure conservative questo è assolutamente evidente io non vorrei però che si depotenziasse anche il giudice amministrativo rispetto al giudice penale attraverso questo sistema del ponte che a me non piace grazie grazie a questo punto sospendiamo i lavori abbiamo il coffee break e poi riprendiamo che io sono adesso tra un quarto d'ora per rispettare i tempi grazie riprendiamo i lavori con diciamo un altro argomento molto molto complesso molto molto controverso penso che insieme al tema della responsabilità della PIA da violazione di regole procedimentali sia un tema che abbia incontrato più adunanze penali negli ultimi tre anni e già stare di tra tutte le adunanze penali è cosa molto molto difficile e mi riferisco naturalmente al problema delle modifiche degli operatori economici anche in corso di gara negli appalti pubblici diciamo gli interventi dovrebbero rispondere a una domanda che è fatta in maniera naturalmente provocatoria se ancora attuare il principio di modificabilità soggettiva dell'operatore economico domanda che nasce naturalmente come sapete anche dalla donanza al penale a 2 del 2022 che ha un po' esteso il 48,19 terra del codice dei contratti pubblici anche alle ipotesi in cui un operatore economico di un raggruppamento temporale di impresa abbia perso i requisiti di partecipazione di cui è l'articolo 80 è un tema peraltro questa donanza penaria è anche molto interessante perché fa un'interpretazione che qualcuno ha definito normalizzante in presenza di due dati normativi che la donanza definisce in piena contraddizione quindi ci sarebbe un conflitto irrisolubile la donanza penaria sceglie una strada e qualche autore ha commentato dicendo che in quel caso la donanza penaria ha indossato gli abiti del legislatore perché era probabilmente un unico modo per risolvere la questione do la parola al consigliere di Stato Federico Di Matteo che ringrazio sul punto buongiorno a tutti grazie a tema orizio agli organizzatori di questo convegno perché come al solito queste sono le occasioni che abbiamo per mettere un po' diciamo in chiaro le idee che nascono dalle vicende contingenti delle controversie e poi però vanno risistematizzate e quindi un momento di studio è sempre necessario ed opportuno allora la diciamo il tema che ci è stato affidato a me il professor Pollice è un quesito cioè è ancora valido il principio attuale il principio di modificazione di modificabilità dell'operatore economico nell'ambito dei contratti pubblici devo dire che a questo quesito in realtà la duranza plenaria 2 del 2022 una risposta la dà perché c'è un passaggio in cui si legge che sono state introdotti tante eccezioni alla norma generale quella appunto che prevede l'immodificabilità dell'operatore economico introducono tutti gli articoli che sono sopravvenuti una pluralità di escursione a tale principio tali per la verità dice la duranza penale astante il loro numero da rendere sempre meno concreta l'applicazione del principio generale e allora il mio intervento che limiterò abbiamo ci siamo divisi i compiti proprio il professor Pollice ai raggruppamenti temporali di imprese e a questo obiettivo diciamo di capire da dove siamo partiti come siamo arrivati alla duranza plenaria 2 del 2022 e dove in prospettiva possiamo andare visto che si sta per aprire una nuova diciamo stagione di riforma nell'ambito degli apparti pubblici e allora il principio di modificabilità del raggruppamento fa il suo ingresso nell'ordinamento insieme appunto alla possibilità di riunione dei concorrenti con la legge Merloni-Ter che interviene modificando la legge Merloni introducendo il comma 5b all'articolo 13 questo comma appunto per la prima volta prevede il divieto di modificazione della composizione in quella l'epoca della Merloni-Ter si diceva delle associazioni temporanee poi diventeranno nella legge 163 del 2006 i raggruppamenti temporanei il divieto di modificazione dell'aggruppamento passa direttamente così come era dalla legge Merloni-Ter al decreto legislativo al primo codice dei contratti pubblici del numero 163 del 2006 se diciamo nella legge Merloni il divieto di modificazione della composizione delle associazioni degli aggruppamenti era assoluto invece nel codice del 2006 già è presente una prima deroga perché appunto si diceva possibile la modifica nei casi previsti dai commi 18 e 19 i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del decreto legislativo 2006 del 2006 si riferivano senza dubbio a vicende soggettive che interessavano imprese raggruppate ma in fase di esecuzione e prevedevano tutta una serie di meccanismi per l'ipotesi in cui una delle imprese raggruppate fosse insomma colpito da una vicenda soggettiva per superare appunto l'impossibilità a proseguire nell'esecuzione del contratto le vicende cui si faceva riferimento erano la soggettamento a fallimento ovvero essere stati destinatari di un provvedimento interdittivo previsto dalla normativa antimafia e nel caso dell'imprenditore individuale anche la morte l'interdizione e l'inabilitazione e i meccanismi questo è importante perché poi questi meccanismi per superare queste vicende sopravvenute ritorneranno nel corso del tempo e daranno sempre numerosi dubbi interpretativi i meccanismi per superare appunto queste vicende che in qualche modo interrompevano il continuativo possesso dei requisiti in capo alle imprese raggruppate erano di due tipi nel caso in cui la vicenda riguardasse il mandatario la sostituzione con altro operatore economico che sia costituito mandatario salvo recesso della stazione appaltante nel caso in cui invece la vicenda si riguardasse il mandante la facoltà per il mandatario di indicare un operatore subentrante ovvero di eseguire direttamente o a mezzo agli altri mandanti la prestazione quindi vicende che potevano riguardare tassativamente individuate che potevano riguardare le imprese raggruppate meccanismi attraverso i quali si poteva superare questa interruzione nel possesso dei requisiti questo il quadro diciamo all'entrata del codice del 2006 allora questo quadro normativo ci consente subito di porci due domande prima di tutto perché la previsione di un principio di modificabilità soggettiva del raggruppamento e secondo quesito perché deroghe perché erano previste deroghe a questo principio allora la ragione del divieto di modificabilità dei raggruppamenti è sempre stata indicata sostanzialmente in due esigenze la prima quella di consentire alla stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti di donità morale di qualificazione nei confronti di tutti i soggetti che raggruppati all'interno di un raggruppamento avrebbero eseguito la prestazione si diceva se fosse consentito al raggruppamento sostituire una delle imprese dopo che l'amministrazione ha effettuato i suoi controlli sarebbero facilmente eluse le verifiche preliminari cui è tenuta l'amministrazione prima ragione seconda ragione che si accompagnava si accompagna sempre a questa la necessità di garantire la par condicio non deve essere consentito al raggruppamento quello che non è consentito ad un altro operatore cioè la possibilità di come si dice attraverso la geometria variabile di poter modificare il suo assetto a seconda delle evoluzioni della vita delle imprese e delle eventuali situazioni che si dovessero appunto verificare la ragione dell'ederoghe era altrettanto chiara cioè se quell'evento che colpisce l'impresa raggruppata si verifica nel corso della fase di esecuzione del contratto l'interesse a completare di esecuzione della prestazione prevale su ogni altro interesse anche eventualmente evidentemente anche sull'interesse a chi sia garantito il possesso continuativo del requisito nella prima ragione che abbiamo detto cioè appunto la necessità che l'amministrazione abbia effettuato i controlli su tutte le imprese non si è elusa questa la fase del controllo di verifica dei requisiti c'era evidentemente uno spazio che la giurisprudenza nella vigenza del codice del 2006 fu lesta accogliere e cioè quello della possibilità della modifica per riduzione del raggruppamento perché c'era questo spazio perché evidentemente se l'esigenza era quella di evitare che potessero subentrare soggetti che non sono stati controllati nel possesso dei requisiti da parte dell'amministrazione se il raggruppamento si riduce per riduzione cioè se una delle imprese va via quella che è stata colpita dall'evento diciamo di perdita dei requisiti evidentemente non c'è nessun problema perché tutte le altre quelle che rimangono sono già state controllate dall'amministrazione nel possesso dei requisiti e quindi questa esigenza questo pericolo che si insinua in un soggetto che non è stato accertato non c'è non si pone e quindi la duranza plenaria a 4 maggio 2019 numero 8 nella torre di Nictoris ma era stato già diciamo anticipato questo orientamento del 2010 ammette appunto la possibilità della sostituzione in riduzione ma fissa delle condizioni cioè è consentita la riduzione per recesso se avvenga per esigenze organizzative del raggruppamento e non invece per eludere la legge di cara ed in particolare per evitare la sanzione dell'espulsione per difetto dei requisiti questo che cosa vuol dire sostanzialmente vuol dire che quando si partecipa quando si presenta l'offerta tutte le imprese debbano essere dotate dei requisiti poi può sopravvenire diciamo una ragione organizzativa che può giustificare il recesso ma non deve essere diciamo una originaria carenza del requisito o appunto non deve essere una strumentalizzata per sottrarsi alla alla sanzione espulsiva che eventualmente la stazione appattante sta per prendere o comunque avrebbe preso in questo scenario entra in vigore il codice 2016 numero 50 che all'articolo 48,9 riprende esattamente nuovamente il divieto di modifica soggettiva e riprende quelle vero che erano previste nel codice del 2006 con alcune modifiche prima si parlava solo del fallimento poi vengono introdotte tutte quante le procedure concorsuali quindi l'assoggettamento a tutte le procedure concorsuali può essere superato attraverso quei meccanismi i meccanismi operativi restano restano sostanzialmente identici a quelli previsti nel 2006 la novità indubbiamente più significativa riguardava l'introduzione in via legislativa della fattispecie della modifica per riduzione cioè il codice del 2006 acquisisce quella a proto a cui la giurisprudenza è arrivata e quindi ammette la possibilità della modifica per riduzione attraverso il recesso di una delle imprese raggruppate dal raggruppamento anche qui precisando esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento a condizione che la modifica non sia diretta a deludere la mancanza del requisito di partecipazione e che le imprese rimaste a comporre il raggruppamento abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire il fatto che si parli si continui a parlare di prestazioni ancora da eseguire questo riferimento questa formulazione che è pressoché identica sia nel comma 17 che nel comma 18 portava a ritenere che nel passaggio dal codice del 2006 al codice del 2016 non fosse venuto o meno un principio fondamentale cioè che la possibilità della modifica fosse limitata solamente alla fase dell'esecuzione ma appunto quindi restava invece sullo sfondo devo dire qui alcune sentenze se ne occupavano ma probabilmente il fatto che si tratti di una giurisdizione del giudice ordinario spiega la ragione per la quale il giudice amministrativo su questo aspetto non si sofferma molto e cioè sul fatto se in fase esecutiva fosse possibile la sostituzione attraverso un soggetto esterno al raggruppamento questo aspetto qui non è molto indagato nelle sentenze anche se in effetti quelle poche che se ne occupano lo ammettevano quindi vi ripeto in fase esecutiva la vera novità arriva con il correttivo al codice che introduce il comma 19 terra specificando che le modifiche soggettive del raggruppamento previste come deroga al principio di modificabilità i commi 17 18 19 trovano applicazione anche qualora si verificano in corso di gara allora questa modifica legislativa mette un po' diciamo in discussione l'intero sistema cioè avvia a una fase così di ripensamento di riflessione di tutto quanto i principi fino a questo momento fino a quel momento saldamente identificati perché in precedenza era chiaro che la situazione esistente bisogna distinguere le due situazioni cioè la fase evidenziale e la fase dell'esecuzione la fase dell'esecuzione intervengono questi eventi che colpiscono le imprese raggruppate ci sono dei meccanismi per poterli superare e poter andare avanti nella fase nell'esecuzione della prestazione se invece quegli stessi eventi si diceva prima vengono nella fase di gara punto fine l'aggruppamento deve essere escluso perché il principio della immodificabilità ha piena applicazione il problema nel momento in cui invece questa possibilità cioè di sostituzione di permanenza in gara di raggruppamento di modifica soggettiva è ammessa anche nell'ipotesi in cui l'evento dovesse attingere una delle imprese in fase di gara e capite bene che va riassettato tutto quanto l'assetto perché evidentemente quella razio della deroga cioè l'interesse alla conclusione della prestazione all'esecuzione del contratto non vale più se diciamo la possibilità della modifica è ammessa anche nella fase di gara ma il problema più serio era quello di stabilire come si potesse superare la situazione di la vicenda che aveva colpito e interessato una delle imprese e cioè se fosse possibile quella che viene chiamata la modificazione per sostituzione esterna o per addizione in sostanza se è vero che c'è una possibilità per il raggruppamento di modificare la sua composizione anche nell'ipotesi in cui l'evento che interessa una delle imprese si verifica nella fase ancora di gara come si realizza qual è il meccanismo che diciamo dovrà attivarsi è possibile per il raggruppamento fare ricorso ad un soggetto esterno al raggruppamento come vi dicevo un problema che in realtà esisteva anche prima nel codice sin dal codice 2006 ma esisteva solamente per l'ipotesi in cui tutto ciò si verificasse in fase di esecuzione invece adesso è molto più pressante se ne occupa chiaramente il giudice amministrativo perché si può verificare il problema anche nella fase di gara su questo problema interviene l'adunanza plenaria la sentenza è quella del 27 maggio 2021 numero 10 estensore noccelli ma anticipata dalla sentenza 9 di paridata nella quale si afferma il principio per il quale le uniche modifiche consentite sono quelle interne al raggruppamento con una diversa distribuzione di ruoli e compiti tra mandanti e mandatari quindi che vuol dire vuol dire che è possibile che l'evento interessi l'impresa raggruppata già in fase di gara il raggruppamento può modificare la sua composizione ma non può diciamo ricorrere ad un soggetto esterno cioè deve farlo utilizzando le imprese che sono già raggruppate che possono diversamente ripartirsi la prestazione e anche gli stessi ruoli cioè chi era mandante può diventare mandataria e viceversa l'adunanza plenaria svolge il suo ragionamento a partire dalla fase esecutiva per giungere poi alla fase dell'evidenza pubblica e fa questo ragionamento in sintesi lo riporto se fosse consentito al raggruppamento di inserire al suo interno un'impresa che fino a quel momento era rimasta estranea sarebbe consentita l'esecuzione ad un soggetto che non è mai passato per la fase dell'evidenza pubblica che è quella deputata alla verifica dei requisiti dei concorrenti e fino a qui diciamo siamo nel tracciato tradizionale perché la ragione dell'immodificabilità era sempre stata come vi ho detto rinvenuta in questa esigenza cioè che sia verificati i requisiti del soggetto ma c'è un ulteriore passaggio se fosse consentito questo cioè se fosse consentito di ricorrere ad un soggetto esterno sarebbero violati i principi di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione i quali presuppongono che l'iter della procedura di gara si svolga secondo determinate e non alterabili scansioni procedurali che consentono la previa verifica dei requisiti in capo ai concorrenti quindi la duranza plenaria del numero 10 del 21 aggiunge quest'ulteriore piccolo passaggio cioè dice oltre alla necessità che i soggetti che eseguano insomma siano soggetti cui requisiti sono stati verificati poi non dobbiamo dimenticare che la procedura di gara si svolge attraverso precisi passaggi e se io dovessi dopo che insomma ho saputo se la stazione appaltante dovesse ritornare dopo che ha saputo che c'è stato che l'aggruppamento intende inserire un soggetto esterno dovesse diciamo rivalutare si sarebbe un ritorno indietro della procedura ad una fase che ormai è superata della verifica dei requisiti per cui la ragione della immodificabilità per adduzione esterna risiede anche appunto ribadisco nella necessità che sia consentito alla stazione appaltante di verificare requisiti ma di farlo secondo le scansioni temporali previste dalla procedura di gara poi naturalmente la donanza plenaria riprende il principio della par condicio come ulteriore ragione per evitare appunto modifiche attraverso soggetti che provengono dall'esterno a questo punto la donanza plenaria afferma chiaramente che quel che vale per la fase esecutiva non potrà che valere a forziori per la fase di gara quindi la donanza plenaria risolve anche il problema vi dicevo che già c'era in passato se si poteva ricorrere ad un soggetto esterno quando la modifica la vicenda interessava l'impresa raggruppata in fase esecutiva anche lì non è possibile anche lì si deve continuare ad eseguire la prestazione ma con le imprese che sono nel raggruppamento allora quindi risolto questo problema ne rimaneva un altro e cioè il problema appunto di consentire che tutte quante le modifiche che tutte quante le possibili vicende che possano interessare un'impresa raggruppata in fase di gara possano consentire o meno la modifica del raggruppamento cioè rimaneva il problema del rapporto tra i commi 19 terra e i precedenti commi 17 18 e 19 dell'articolo 48 perché rimaneva questo problema perché ve l'ho detto prima i casi per i quali è consentita le deroghe sono legate a vicende strettamente individuate quindi procedure concorsuali interdittiva antimafia invece con il correttivo si inserisce il riferimento generale si inserisce l'articolo 19 comma terra le previsioni di cui ai commi 17 e 18 trovano applicazione laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara ma si allo stesso momento cioè quando si introduce il comma 19 terra si modificano anche i commi 17 e 18 aggiungendo alle vicende che possono dar luogo a modificazione del raggruppamento tutti i casi di perdita dei requisiti di cui all'articolo 80 quindi mentre in precedenza le vicende che potevano consentire la modifica del raggruppamento erano definite strettamente individuate con questa modifica si apre a tutte quante le ipotesi dell'articolo 80 e allora la domanda che viene sottoposta il quesito che viene sottoposta alla duranza penaria è se come vanno interpretate queste norme se cioè quando l'articolo 19 terra fa riferimento alla possibilità di modifiche soggettive del raggruppamento anche in fase di gara si riferisca a tutte quante le ipotesi di esclusione dell'articolo 80 solamente a quelle tastativamente previste da sempre previste procedure concorsuali provvedimenti previsti dalle leggi antipafie e la duranza plenaria con la sentenza appunto che citava il collega Santise prima 22 del 2022 già l'ho citata in precedenza riconosce l'esistenza di una vera e propria antinomia assoluta tra queste norme cioè dice è impossibile ritrovare un criterio che consenta di leggere insieme queste due norme o diciamo si va fatta l'applicazione dell'una o va fatta l'applicazione dell'altra e propende per un'interpretazione estensiva cioè propende per interpretare il sistema nel senso che tutte quante le vicende di cui all'articolo 80 che possano riguardare le imprese qualora si verificano in fase di gara danno la possibilità all'impresa di sostituire uno dell'aggruppamento di sostituire uno delle imprese senza più alcun limite allora e qua dobbiamo necessariamente entrare nel tecnicismo e di questo mi scuso cercherò di essere quanto più chiaro possibile qual è ora la situazione all'esito di queste pronunce dell'adunanza plenaria la situazione è questa è ammesso la modifica del raggruppamento temporaneo in fase di gara e nella fase esecutiva per tutte quante le vicende quindi senza limiti alle vicende che possono interessare una delle imprese raggruppate ma solo in riduzione dell'unitaria compagine quindi non per sostituzione né per addizione ad opera di imprese esterne questo è noi siamo arrivati a questo punto diciamo con le interpretazioni dell'adunanza plenaria a questo punto però bisogna fare un passaggio più come dire immediato più pratico cioè che cosa significa questo in concreto allora abbiamo detto cerchiamo cerco di spiegare dove voglio arrivare allora se se l'unica possibile modificazione è consentita e quella è riduzione ne deriva per logica conseguenza che per poter continuare a stare in gara il raggruppamento o meglio le imprese che lo facevano parte originariamente che sono rimaste anche dopo la fuoriuscita di una di esse doveva già possedere i requisiti per l'esecuzione e delle prestazioni cioè a dire doveva essere un raggruppamento sovrabbondante appunto questo è il tecnicismo di cui vi scuso cioè per essere più chiari quel raggruppamento doveva possedere i requisiti di esecuzione in misura maggiore rispetto diciamo a quella della richiesta dal bando e questo è evidente perché l'impresa che fuoriesce dal raggruppamento perché è attinta da una delle vicende si porta con sé via anche quei requisiti che aveva per eseguire la prestazione perché questo? Perché noi sappiamo che la dunanza plenaria 2019 numero 6 ha scolpito il principio cioè l'impresa che si dichiara che assume l'impegno ad eseguire una percentuale della prestazione deve essere necessariamente in possesso della stessa percentuale del requisito di qualificazione corrispondente all'impegno che ha assunto cioè quella adunanza plenaria e qui il paradosso quella adunanza plenaria 19 numero 6 arrivava proprio a dire che non sono ammessi i raggruppamenti sovrabbondanti o per meglio dire non sono ammessi in astratto perché non sono ammessi in astratto perché ciascuna deve impegnarsi ad una percentuale di esecuzione e per quella percentuale di esecuzione essere dotata dei requisiti di qualificazione tant'è che appunto l'ordinanza che rimetteva alla adunanza plenaria questa questione appunto si domandava se fossero ammessibili raggruppamenti sovrabbondanti e l'adunanza plenaria lo esclude adesso però appunto in cui siamo arrivati è assolutamente necessario che il raggruppamento sia sovrabbondante cioè che possegga requisiti maggiori di quelli richiesti dal bando perché altrimenti l'impresa che va via ripeto si porta con sé i requisiti e il raggruppamento l'esecuzione non la potrà fare che siamo in sede di gara che siamo in sede di esecuzione poco importa se l'unica modifica consentita è quella per riduzione deve necessariamente possederli perché si deve ricostituire deve nuovamente indicare le percentuali per le quali le imprese si impegnano e le imprese che dichiarano di impegnarsi per una certa percentuale devono avere requisiti altrimenti andiamo in conflitto allora se questo è vero però cioè se è vero tutto questo che ci siamo detti compresa quest'ultimo profilo al di là appunto del possibile paradosso contrasto vorrei mettere in evidenza un aspetto forse ancora più pratico di quello che ho detto finora e cioè su un punto tutte le adunanze plenarie sono d'accordo lo si chiedeva anche quando si è rimandata la questione alla plenaria che poi ha dato vita alla sentenza 2 del 2022 lo si chiedeva ma era implicito e cioè che ci debba essere una fase in cui si è consentito al raggruppamento di ripensare la sua composizione è innegabile cioè l'amministrazione ormai deve ipotizzare per l'assetto a cui siamo intervenuti una fase procedimentale sub procedimentale come la vogliamo chiamare in cui consente al raggruppamento di ricostituirsi secondo una diversa composizione questo è inevitabile ci deve essere questa apertura del procedimento e l'adunanza plenaria lo dice ma era chiaro allora se questo è vero se c'era sarà questa fase di apertura della si inizia questa fase questo spin off possiamo chiamare della procedura ordinaria a seguito della vicenda che ha interessato il raggruppamento e se diciamo il soggetto era in possesso dei requisiti ma non li aveva dichiarati perché aveva dichiarato i requisiti necessari alla percentuale di prestazione che doveva eseguire come richiesto dalla plenaria 6 del 2019 è necessario è evidente che l'amministrazione la stazione appaltante in questa fase di spin off dovrà necessariamente riverificare i requisiti delle imprese per valutare se effettivamente siano sovrabbondanti rispetto a quelli originalmente indicati per poterle consentire di rimanere in gara perché se non lo sono deve necessariamente escluderla e allora termino il mio intervento con una domanda lo ha fatto diciamo Vincenzo Neri mi sento autorizzato anche io a farlo prendo una posizione un po' contraria rispetto all'adunanza penaria vi domando mi domando e vi domando che differenza c'è tra necessità di controllare i requisiti delle imprese che già sono in un raggruppamento e necessità di controllare i requisiti di un'impresa che chiamiamo dall'esterno per raggiungerla all'aggruppamento cioè se questa fase di requisiti si deve aprire e si deve aprire per come il sistema si è congegnato a seguito delle pronunce ma io direi che probabilmente lo si può fare anche per un'impresa esterna senza grossi tu problemi per la stazione appaltante quindi rispondo al quesito con un altro quesito e concludo qua vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie al consigliere di Matteo per questa ultima bomba che ha lanciato al termine del suo ottimo intervento e io ho anche un dubbio che lascio qui come tema diciamo di indagine la donanza del 2022 ci dice che è possibile la sostituzione estendendo l'articolo 48,19 terra all'articolo 80 sostanzialmente mi domando ma questa operazione ermeneutica la possiamo estendere anche ad altri requisiti di partecipazione non espressamente richiamati nell'articolo 80 esempio attestazione SOA se si perde l'attestazione SOA è possibile la sostituzione il dubbio mi viene perché sappiamo che sul punto è intervenuta nel 2021 la donanza per la 5 del 2021 che si dice se nel consorzi stabili una consorziata perde l'attestazione SOA è possibile la sostituzione ma perché è consorzio stabile se invece il consorzio ordinario no ma il consorzio ordinario se guardiamo l'articolo 48 è equiparato all'aggruppamento temporale di impresa quindi forse non è possibile la sostituzione questo è un quesito che mi è venuto leggendo un po' la donanza del 2022 do la parola al professore Arissi De Pollice che ringrazio in anticipo sono io a ringraziare moltissimo l'ufficio studi e quindi anche i consiglieri Santisi e i consiglieri Neri per questa occasione di confronto e di ascolto reciproco prima ancora che di confronto un po' perché è da tempo che non lo facevamo un po' perché in questo modo così istituzionale è la prima volta che davvero ci si confronta su temi così importanti quindi si impara tantissimo al di là della bellezza del confronto peraltro avviene in un momento storico in cui l'Accademia vi ha donato una delle sue perle la professoressa Barbati che è stata la presidente del professore di diritto amministrativo di recente quindi questo scambio è uno scambio fruttuoso speriamo anche per prospetticamente su questo tema mi sembra paradossale che io debba difendere la donanza plenaria ma io sono convintamente certo che la soluzione della plenaria è una soluzione corretta ed è corretta per delle ragioni che non sono strettamente collegate e non solo strettamente collegate all'assetto normativo che c'è stato così ben rappresentato dal consigliere Di Matteo che peraltro anche nell'ordinanza di rimessione è molto pregevole che l'avrete sicuramente apprezzata ci rappresenta la problematicità sicura del tema ora che il tema sia problematico per il rapporto fra le norme è in dubbio però io credo che ci siano tre profili che debbano essere considerati e che a mio avviso giustificano la soluzione della plenaria nel caso specifico ma giustificano anche letture analoghe in circostanze diverse come quest'ultima che ricordava il consigliere Santise e cioè il ruolo del tempo in riguardo alle sopravvenienze il tema della rigidità delle forme come principio strumentale a determinati valori o principi sul tempo e le sopravvenienze noi dobbiamo considerare che i tempi delle procedure di gara si sono enormemente allungati si sono enormemente complicati questa circostanza di fatto che è un dato storico dovuta alla maggiore complessità e comunque alla maggiore durata delle procedure rende il tema della immodificabilità un tema significativo per le stesse stazioni appaltanti oltre che per le imprese l'interesse cioè non è solo un interesse del mondo imprenditoriale o di parte di esso ma è anche un tema per quanto riguarda le stazioni appaltanti che si trovano in qualche modo in una situazione nella quale l'immodificabilità come criterio rigido diventa meccanismo per determinare una riduzione della concorrenza perché siamo davanti a un tema che come ci veniva ricordato prima dal consigliere Di Matteo è un tema che è tutto costruito in relazione alla tutela del valore della concorrenza e cioè della funzione che le procedure concorsuali assicurano a tutela della concorrenza e fa imprese in questo delicato settore e io credo che la plenaria abbia faticato moltissimo a trovare un equilibrio un bilanciamento fra contrapposte esigenze in relazione a questi a questi principi perciò io credo che debba essere molto apprezzata la soluzione della plenaria 2.22 perché cerca di bilanciare il principio della massima partecipazione alla gara senza contraddire o mettere a rischio il principio della par condicio dei concorrenti e quindi del valore assoluto della concorrenza nell'ambito della procedura di gara c'è un tema che alleggia in tutto questo contesto è cosa pensa il legislatore il consigliere Neri nel suo intervento a un certo punto ha detto cosa pensa il legislatore riguardo al suo tema e anche il presidente Maruotti ci ha ricordato in uno dei suoi interventi il ruolo del legislatore ora anche qui il ruolo del legislatore è un ruolo quanto mai dissonante frutto evidentemente sia di interventi episodici sia di assenza di coordinamento quindi che ci siano delle antinomie è indubbio che queste antinomie siano assolute è un tema che dalle parole del consigliere di Matteo io ho percepito lui non sia così certo che l'antinomia sia assoluta però questa è una mia diciamo una mia interpretazione del suo dire io credo che anche se l'antinomia non fosse assoluta in presenza di un'antinomia ci sarebbe un obbligo per il giudice di esercitare la sua discrezionalità giudiziaria prima ce ne ha parlato il professore Perongini della discrezionalità del giudice ci ha ricordato di Raselli e dei più giovani fino a Oletta ma anche Baracca il grande processualista israeliano che ci riportano a questa discrezionalità intesa proprio come luogo volto a ricostruire la regola anche in presenza di antinomie c'è un bellissimo saggio di Riccardo Guastini sui principi di diritto e la discrezionalità giudiziaria è materia dei teorici del diritto e quindi io non mi permetto di razzolare in un campo per il quale proprio non posso aspirare ma sicuramente il mestiere che ha svolto la plenaria in questa vicenda è proprio quello cioè quello di trovare un bilanciamento fra principi un bilanciamento fra principi necessitato dall'antinomia si può accedere alla critica la ricordava prima il consigliere Santise quando ha introdotto questa sessione sul tema la critica che alcuni commentatori hanno fatto alla plenaria e cioè che non ha esercitato la plenaria una funzione nomofilattica ma una funzione nomopoietica si è posta come legislatore io credo che questa affermazione o questa critica sia una critica che in realtà tende ad ignorare che la distinzione tra nomofilassi e nomopoiesi è minima anzi è inesistente peraltro su questo tema la posizione del Consiglio di Stato nella sede della dunanza plenaria ma poi si vedrà anche nella sede che il Governo vorrà conferirle proprio in questa materia cioè nella ricostruzione del sistema normativo complessivo dei contratti pubblici deve essere di ricostruzione per evidente situazione di disfunzionalità delle norme positive del resto il discorso del Presidente Frattini nel suo insediamento in quest'Aula qualche settimana fa ha messo in evidenza l'importanza fra le tante attribuzioni del Consiglio di Stato proprio di questa attribuzione che nella legge di concorrenza si ipotizza di assegnare nella delega sul codice dei contratti pubblici al Consiglio di Stato quindi questa particolare assunzione di responsabilità dell'interprete che ci deve essere sempre una garanzia per il sistema complessivo in questa materia è una necessità addirittura legittimata dal convincimento del legislatore sia pure governativo ma credo anche parlamentare di assegnare quest'opera di ricostruzione a un corpo tecnico che ha anche funzioni consultive quindi c'è un raccordo strettissimo tra questa funzione quella nomofilattica e quella invece di collaborazione alla funzione normativa del governo nella formulazione di norme primarie che non dobbiamo sottovalutare in questo in questo contesto e allora ritornando al tema c'è un limite o un vulnus nell'interpretazione che il Consiglio di Stato ha dato per rispondere a questa domanda io vorrei collegarmi strettamente all'ultimo interrogativo che ci ha lanciato il consigliere Di Matteo che io non credo sia una bomba però sia una giusta preoccupazione la giusta preoccupazione è quella di dire ma se è vietato il raggruppamento sovrabbondante e se io posso consentire soltanto in riduzione il mutamento 2 più 2 fa 4 e la sottrazione non mi porta al risultato scusate se banalizzo diciamo la rappresentazione molto più fine che ha fatto il consigliere Di Matteo in realtà io qui temo che o meglio spero che l'interpretazione del divieto di raggruppamenti sovrabbondanti venga svolta e anche nella riflessione futura che potrà esserci innanzi a voi non tanto con riguardo alla sovrabbondanza dei componenti il raggruppamento ma quanto alla sovrabbondanza del raggruppamento stesso nel senso che ciascuna impresa partecipa a un raggruppamento con una certa dote che non necessariamente è la dote complessiva delle sue risorse delle sue qualificazioni della sua esperienza del suo fatturato e così via quindi l'impresa all'atto della costituzione del raggruppamento sceglie un ruolo quindi mandante o mandatario e sceglie un patrimonio da conferire o da rappresentare la stazione appaltante nel contesto del raggruppamento nel momento in cui questo raggruppamento non sovrabbondante perché il raggruppamento viene formato in modo da essere adeguato all'esigenza della stazione appaltante del bando di gara debba necessariamente essere ricostituito per esigenza dovuta al venirmene di uno dei componenti ove possibile cioè ove la realtà delle imprese raggruppate lo consenta l'impresa che ha offerto un pezzo del suo patrimonio potrà offrire un pezzo più grande del suo patrimonio di fatturato esperienza qualificazioni per stare al tema delle soe e così via e ci sarà bisogno di una nuova istruttoria diceva il consigliere Di Matteo sì una porzione di istruttoria che verifichi per la porzione aggiuntiva che viene introdotta ma da parte della stessa impresa che ha partecipato alla gara che quelle ulteriori qualità e diciamo elementi subentranti ci siano e siano reali questo altera la concorrenza? questo io non credo alteri la concorrenza perché non la altera? perché quella impresa in realtà aveva già formulato la propria offerta aveva già partecipato alla gara qui si tratta soltanto di un diverso assetto delle responsabilità interne il fatto che ci sia un diverso assetto pregiudica la posizione degli altri concorrenti? questa è l'altra domanda importante ecco su questo dobbiamo intenderci se l'interesse alla concorrenza cioè delle altre imprese che partecipano sia quella a tenere fuori dal confronto concorrenziale concorrenti anche solo per sopravvenienze occasionali come sono queste e se questo sia un interesse giuridicamente tutelato dall'ordinamento e dal principio di concorrenza o se viceversa il principio di concorrenza postuli esattamente l'altro valore cioè quello che ferma la partecipazione di quei soggetti che in quel tempo dato cioè il tempo di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione a quella gara hanno partecipato l'interesse della concorrenza sia di consentire a tutti quelli che hanno partecipato utilmente di confrontarsi nel merito delle loro capacità competenze e qualità e livello di prezzo delle offerte presentate io credo che sia questo il vero valore della concorrenza cioè questo di una concorrenza sostanziale cioè di un confronto fatto sulla qualità dell'offerta e della complessiva qualità soggettiva dei partecipanti non viceversa quello della speranza dell'esclusione dell'avversario dal contesto concorrenziale per ragioni di forma e credo che questa prospettiva non soltanto risponda ai principi anche europei di diritto della concorrenza ma risponda anche a quel principio non di decotazione delle forme ma di considerazione delle forme come possibilità della sostanza diceva un sociologo molto importante cioè la forma ha un senso una ragione di esistere soltanto in funzione di un interesse che la giustifichi e quindi per questa ragione se non possiamo rispondere in senso affermativo alla provocatoria domanda cioè che tutto è sempre modificabile non è sempre tutto modificabile lo ha spogliato molto bene il consigliere di Matteo credo che la modificazione che l'adunanza plenaria nella sua sofferta pronuncia perché io questa pronuncia la 222 la leggo come sofferta e non certo per la penna che è sempre felice del consigliere Forlenza ma in realtà la vedo sofferta perché si percepisce la sofferenza o l'assunzione di responsabilità del giudice nel rendere un'interpretazione che in qualche misura si confronta con una legge che crea ostacoli quindi è del tutto percepibile il senso maturo di assunzione di responsabilità rispetto a un'interpretazione tra virgolette creatrice ma è un'assunzione di responsabilità doverosa perché come anche in un passo della sentenza si legge questa interpretazione avviene nel rispetto di quei canoni interpretativi secondo un costituzione che sono imposti al giudice per questa ragione io credo che all'interrogativo del consigliere Di Matteo si possa rispondere con serenità che la strada imboccata dalla plenaria nella sentenza 2 2022 sia una strada giusta perché sia da un lato rispettosa della concorrenza quella vera quella sostanziale dall'altro non determini delle ingiuste alterazioni della par condicio fra i concorrenti fermo diciamo il principio della modifica soltanto in diminuzione vi ringrazio grazie professore per le valutazioni per tutte le questioni che ha sollevato peraltro sulla sostituzione per addizione forse potrebbe ostare anche il comma 19 che vieta le sostituzioni quando sono elusive dei requisiti di partecipazione è un altro tema che si pone sentendo questi due ottimi interventi mi è venuto in mente da dove siamo partiti ovvero sul rapporto col diritto civile perché il tema quello sull'immodificabilità è proprio forse un tema che segna la distanza maggiore tra diritto amministrativo e diritto civile invece sappiamo accogli l'esatto principio opposto ovvero quello della cedibilità delle posizioni giuridiche e sembra quasi grazie che il diritto amministrativo rimonti un po' al diritto romano perché fino al secondo secolo dopo Cristo nel diritto romano era prevista la incedibilità delle posizioni giuridiche quindi è un come dire un parallelo naturalmente nel diritto amministrativo non c'è la incedibilità ma c'è una diciamo incedibilità relativa abbiamo capito da questi interventi grazie grazie anche per il ritmo perché naturalmente dobbiamo rispettare i tempi e adesso abbiamo un diciamo area tematica veramente due o tre giorni non basterebbero per trattarla ovvero quella sui rapporti da diritto interno e diritto sovranazionale che ha diciamo ormai è nel DNA di qualunque giudice ma del giudice amministrativo in particolare sicuramente di qualunque studioso del diritto amministrativo è recentissima la Corte di Giustizia sull'accesso di potere giurisdizionale che è stata un po' chiamata dalla Corte di Cassazione a ergersi un po' arbitro dei conflitti interni nel nostro diritto interno abbiamo tantissimi temi caldi uno di questi è quello sul rinnovo delle concessioni dei marinari marittime che ancora dopo le sentenze della donanza plenaria continua a sollevare tanti tanti dibattiti il titolo è anche con riguardo alla teoria dei controlimiti perché si riferisce un po' a una donanza plenaria all'uno del 2022 quella sul distesso degli enti locali che fa un passaggio sulla teoria dei controlimiti che qualche autore ha inteso come un cambio di rotta rispetto alla teoria tradizionale non riferita solo allo zoccolo duro dei principi della Costituzione ma un po' a tutte le norme della Carta Costituzionale do quindi la parola al Presidente di sezione del Consiglio di Stato Roberto Giovagnoli che ringrazio grazie grazie a voi allora il tema è effettivamente molto ampio non basterebbero appunto giorni e giorni per questo io vorrei diciamo cominciare concentrare appunto il mio intervento su quella che è la domanda che in maniera suggestiva dà titolo a questa relazione cioè se la teoria dei controlimiti è oggi ancora attuali beh questa è effettivamente una domanda a cui diciamo mi sento di rispondere in senso assolutamente affermativo anche perché nel corso soprattutto dell'ultimo decennio quella che era effettivamente una teoria elaborata anche dalle vari corti costituzionali ma alla fine raramente applicata nel corso dell'ultimo decennio invece ha avuto applicazioni significative anche applicazioni molto critiche molto spregiudicative soprattutto diciamo in stati membri diversi dall'Italia ed è proprio il ruolo dei controlimiti che oggi rappresenta diciamo come dire un punto cruciale del processo di integrazione europea il rischio da un lato di minare l'uniformità del diritto dell'Unione Europea e dall'altro lato invece se come dire ignorati utilizzati in maniera troppo blanda accettare perdite di aspetti essenziali di quella che è l'identità costituzionale ora il tema dei controlimiti si può porre sotto diversi profili noi certamente anche la nostra giurisprudenza nazionale ha affrontato anche nel corso degli ultimi anni i controlimiti rispetto a tre principali fonti esterne diritto dell'Unione Europea trattati internazionali ma segnatamente la CEDU e poi le consuetudine internazionali ora con riferimento alle consuetudine internazionali forse rappresenta l'aspetto diciamo più clamoroso nel senso quello dove effettivamente la teoria dei controlimiti è stata più applicata in maniera anche prepotente tra virgolette dalla Corte Costituzionale è un'applicazione probabilmente eccezionale che tutti noi spediamo data anche la particolarità della vicenda non sia mai più destinata diciamo a ripetersi però certamente va ricordata in questo ambito la Corte ci ha detto che il controllo diciamo sui controlimiti ovviamente riguarda anche le consuetudine internazionali ed ha utilizzato in fondo la consuetudine internazionale è una fonte fatta una fonte esterna una fonte come tale difficilmente sindacabile dalla Corte Costituzionale che si occupa di un sindacato sulle leggi e lì la Corte ha utilizzato come dire una sorta di meccanismo di tutela preventiva cioè ha detto va bene l'interpretazione che la Corte internazionale di giustizia ha dato alla Consuetudine internazionale ritenendo che possa no coprire l'immunità giuridizionale degli stati anche i crimini di guerra gravemente lesivi di diritti umani con riferimento diciamo alla Germania nazista non discuto questa interpretazione ma così interpretata questa norma consuetudinaria non può entrare perché l'articolo 10 non la fa entrare e quindi non può essere applicata non può essere utilizzata o come norma interposta o per dare fondamento a interventi legislativi del legislatore ricordiamo che in quella vicenda il legislatore proprio per dare esecuzione alla sentenza della Corte dell'AIA aveva fatto una legge con la quale prevedeva l'inefeguibilità dei giudicati di condanna e l'improponibilità delle azioni appunto risarcitorie contro lo Stato tedesco appunto per i crimini di guerra del periodo nazista quindi la Corte qua instaura una sorta di meccanismo come dire di tutela preventiva quella norma non entra se contrasta con i controlimiti sentenza molto forte sentenza che qualcuno ha anche criticato per sotto il profilo proprio del diritto costituzionale una fonte fatta una fonte fatta formatta sia anche anteriormente rispetto all'entrata in vigore della Costituzione ma certamente un forte baluardo a protezione diciamo di un nocciolo duro di identità costituzionale dicevo una vicenda certamente clamorosa ma auspicabilmente destinata a non ripetersi frequentemente diciamo il problema dei controlimiti invece si pone frequentemente rispetto alle altre due fonti esterne che sono appunto rispettivamente il diritto dell'Unione Europea da un lato e l'acedo soprattutto dall'altro lato ora da questo punto di vista vorrei evidenziare diciamo una differenza tra l'operatività dei controlimiti rispetto a questi due ordinamenti sovranazionali diciamo rispetto all'acedo al di là del diverso fondamento che due ordinamenti hanno nella Costituzione quindi anche della diversa intensità dei controlimiti è noto che mentre l'acedo ha come controlimiti tutte le norme della Costituzione l'ordinamento dell'Unione Europea trovando il suo fondamento in articolo 11 ha come controlimiti soltanto i principi identitari e diritti fondamentali diciamo della persona ma al di là di questa diciamo di questa diversità quantitativa per così dire mi sembra che esista proprio una ulteriore diversità che renda il problema dei controlimiti rispetto alla cedu e in fondo la sentenza della plenaria che citava il consigliere Santise in parte lo dimostra il problema rispetto alla cedu è un problema da un certo punto di vista meno drammatico di quello che invece caratterizza il diritto dell'Unione Europea questo perché la cedu è comunque un ordinamento sovranazionale che ha come scopo la tutela dei diritti umani la tutela dei diritti fondamentali cioè si propone di tutelare i diritti fondamentali e tra virgolette basta non non promanano norme materiali che disciplinano determinate materie quindi diciamo individua una lista di diritti che normalmente sono tutelati anche ormai dalle costituzioni nazionali e tra l'altro si ispira chiaramente la cedu all'obbligo come dire della protezione maggiore nel senso che dice che se poi lo Stato li vuole tutelare di più tanto di guadagnato tanto meglio c'è quindi la clausola della maggiore protezione ora effettivamente già questo ci induce ad una riflessione una convenzione internazionale che vuole tutelare i diritti fondamentali ma che dice allo Stato li vuoi tutelare di più tanto di guadagnato fai pure come può violare dei controlimiti ed infatti il problema dei controlimiti rispetto alla cedu che quindi non si pone come sistema escludente ma come sistema concorrente complementare rispetto al sistema di tutela dei diritti umani previsto dalla Costituzione e si è posto in maniera diversa si è posto soprattutto diciamo sotto il profilo direi del bilanciamento di valori del bilanciamento di diritti sì è vero che tutti i diritti umani ma spesso che non lo sappiamo i diritti umani entrano tra di loro in conflitto ci ha insegnato anche la nostra Corte Costituzionale che non c'è una gerarchia sono equiordinati vanno bilanciati questo bilanciamento è frutto di una valutazione discrezionale affidata di volta in volta diciamo al legislatore e allora non c'è dubbio che questo bilanciamento può trovare a livello CEDU un punto di equilibrio differente rispetto a quello che trova a livello nazionale infatti normalmente i momenti di attrito e di contrasto riguardano questo il diverso equilibrio nel bilanciamento quindi un problema essenzialmente proprio di giudizio di valore di comparazione appunto di valore laddove la CEDU ritiene non sacrificabile in nome di un certo valore quello che magari la nostra giurisprudenza costituzionale ritiene invece sacrificabile e quindi c'è un diverso bilanciamento e già questa è una differenza significativa però anche su questo i margini di manovra diciamo per tra virgolette resistere o respingere a quelli che possono essere giudizi di bilanciamento ritenuti non accettabili nel nostro ordinamento perché vanno a sacrificare troppo ciò che noi riteniamo non sacrificabile in nome di altri valori rispetto alla CEDU ci sono in maniera più significativa le vie riuscita ci sono in maniera più significativa perché c'è innanzitutto la distinzione che ormai ha fatto la Corte Costituzionale in maniera piuttosto chiara tra sentenze CEDU e sentenze CEDU quindi il vincolo interpretativo non riguarda tutte le sentenze CEDU ma riguarda soltanto quelle sentenze che sono espressione di una giurisprudenza consolidata o sono sentenze pilota e quindi ci sono alcuni indici sintomatici per riconoscerlo certo tutte le sentenze sono vincolanti per lo Stato che soccombe quindi lo scato dovrà comunque riparare il cittadino che ha vinto a Strasburgo però quando poi si pone il problema del vincolo interpretativo si può dire attenzione questa sia una sentenza ma non è un orientamento consolidato ne prendiamo atto ma non ci vincola nell'interpretare la CEDU in fondo anche la plenaria che veniva citata prima quando si pone il problema di una corte europea del 2013 non ricordo male la di Luca che sul rapporto tra procedure di dissesto e crediti successivamente accertati con giudicato e diceva che questi dovevano stare fuori e dice vabbè ma non è un orientamento consolidato lo possiamo superare poi forse questo giudizio di bilanciamento anche alla luce di quello che dice la corte costituzionale e lo possiamo risolvere valorizzando un altro valore cioè il buon funzionamento della pubblica amministrazione preservare le funzioni fondamentali delle ente locali che verrebbero magari pregiudicate da quella eccessiva concessione alle esigenze della tutela giuridizionale quindi c'è la possibilità appunto di superare il vincolo interpretativo e già è una possibilità che le sentenze della corte giustizia forse offrono meno come vedremo poi c'è il cosiddetto margine di apprezzamento che la corte costituzionale sia sempre riservata la corte ha sempre detto sì ok ricordiamoci però che quando la corte edu nel fare quel giudizio di bilanciamento e nel dire che abbiamo sacrificato troppo un valore fondamentale senza giustificazione lo fa nel caso concreto perché un giudice del caso concreto è un giudice alla cui attenzione viene portata un'applicazione concreta di una legge asseritamente violativa di un diritto umano noi corte costituzionale quando quella stessa legge ci viene posta all'attenzione la dobbiamo espungere dal sistema per sempre noi siamo giudici del sistema non giudici del caso concreto noi dobbiamo fare una valutazione di sistema e allora nell'adattare quel giudizio di bilanciamento dal caso concreto al sistema abbiamo un margine di apprezzamento e quel margine di apprezzamento può senza smentire il giudizio di bilanciamento fatto dalla corte edu senza smentirlo come parametro quindi applicando quello stesso parametro però possiamo utilizzare quello stesso parametro e arrivare ad esiti diversi faccio il caso delle pensioni svizzere e della retroattività della legge in materia civile e quindi della possibilità di utilizzare leggi in materia di interpretazione autentica la corte si è adeguata in principio a quello che dice la CEDO cioè quando tu fai la legge di interpretazione autentica a giudizio un corso vai ad alterare le regole del gioco altri quindi l'ecoprocesso perché non è un processo in cui le regole cambiano dopo che è iniziato per carità lo puoi fare ma serve che ci sia non un mero interesse finanziario ma esigenze imperative correlate alla tutela di un interesse fondamentale che io non vedo e quindi condanna nella vicenda delle pensioni svizzere l'Italia quando la questione quando la legge viene portata all'attenzione della Corte la Corte dice ok retroattività incontra questi limiti sono d'accordo con te lo possiamo fare soltanto per soddisfare esigenze imperative di interesse nazionale che non siano finalità finanziarie sono d'accordo non sto smentendo il tuo giudizio aziologico ma col margine di apprezzamento che mi deriva dal fatto che io sono il giudice del sistema vedendo il sistema guardando il sistema io riesco a trovare una giustificazione che tu giudici il caso concreto non hai trovato che quella di assicurare la equità dire alla Corte del sistema pensionistico quindi di evitare le sperequazioni quindi ritengo che l'esigenza di evitare sperequazioni sia quella esigenza imperativa che tu cerchi e quindi ritengo applicando il tuo stesso parametro di poter diciamo rispingere la questione e quindi non dichiarare l'incostituzione di una legge che tu nel caso concreto hai ritenuto violarla quindi i casi diciamo di aperta contradietà di insuperabilità e quindi di concreta attivazione dei controlimiti rispetto alla CEDU sono alla fine tutto sommato rari nel senso che spesso se ne esce o adeguandosi o quindi seguendola o col margine di apprezzamento oppure ricorrendo diciamo alla giurisprudenza non consolidata e quindi reinterpretando in senso anche costituzionalmente orientato la scelta e il discorso cambia molto per il diritto comunitario e cambia molto per il diritto comunitario perché il diritto comunitario si potrebbe dire beh ormai anche il diritto comunitario è un ordinamento di tutela di diritti fondamentali c'è la carta cosiddetta di Nizza ormai equiparata a livello dei trattati che tutela di diritti fondamentali e similmente alla CEDU contiene una clausola di maggiore protezione perché lì c'è una norma un po' ambigua che dice che nessuna disposizione della presente carta in qualche modo pregiudica una possibilità di maggior tutela offerta dalle costituzioni nazionali però poi aggiunge ciascuna nel proprio ambito di applicazione il problema è proprio questo in realtà che il diritto comunitario non è un ordinamento che ha come scopo esclusivo la tutela dei diritti fondamentali anzi sono un'acquisizione piuttosto recente la tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario l'ordinamento comunitario è un ordinamento che detta disciplina ambiti materiali di materie disciplina materie e ha fatto dei diritti fondamentali un proprio limite cercando anche in qualche modo di europizzare in qualche modo i controlimiti per accentrarne il controllo ma è certo che quel sistema su quelle materie in cui il diritto comunitario ha la competenza e quel sistema di tutela dei diritti fondamentali e non si pone come complementare concorrente noi diamo questa tutela ma tu se vuoi Stato dai una tutela maggiore non c'è problema si pone come un sistema di tutela tendenzialmente escludente che se ne dica tendenzialmente escludente perché perché è evidente che se fosse lasciata agli Stati la possibilità di dire io voglio tutelare questo diritto fondamentale di più significherebbe dare la possibilità agli Stati invocando questa maggior tutela del diritto costituzionale nazionale di non applicare nel proprio territorio la normativa comunitaria la normativa materiale e questo determinerebbe la dissoluzione di un valore cardine dell'ordinamento dell'Unione Europea che è l'uniforme applicazione e avremo un'Europa a diverse velocità in cui l'Unione applica ciò che vuole a proprio uso e consumo e questo è evidentemente il vero rischio e non è accettabile e questo approccio questo approccio diciamo escludente la Corte di Giustizia comunque lo dice chiaramente nella nota sentenza Melloni che riguarda il mandato d'arresto europeo caso parte italiano perché la condanna viene pronunciata in Italia una condanna in contumacia il soggetto deve essere stradato tra virgolette dalla Spagna la Spagna ha una sua giurisprudenza costituzionale che non consente le stradizioni che è stato condannato in contumacia pone il problema dice ma io in realtà ho questa cosa fai l'invio pregiudiziale quindi effettivamente utilizza i controlimiti in chiave dialogica collaborativa chiede alla Corte di Giustizia cosa fare posso invocare la maggior tutela del diritto fondamentale quantomeno per pretendere che lo Stato richiedente si renda disponibile ad una revisione del processo celebrato in contumacia e la Corte dice decisamente no non puoi utilizzare il tuo sistema di diritti costituzionali per escludere l'applicazione di una disciplina comunitaria peraltro come quella che fonda il mandato del resto europeo che si basa sulla reciproca fiducia sull'equivalenza della tutela dei diritti fondamentali quella sentenza che molti hanno criticato perché ritenuta molto accentatrice però coglie il nodo del problema effettivamente se fosse possibile invocare di volta in volta la propria tutela dei diritti fondamentali per escludere l'applicazione salterebbe tutto e questo è il vero problema che ci pone il controlimite rispetto diciamo al diritto comunitario e le conseguenze di questo si sono viste perché quando alcune volte non da noi ma altrove i controlimiti sono stati utilizzati in un'ottica più spregiudicata abbiamo avuto quello che abbiamo avuto abbiamo avuto il caso delle pensioni delle pensioni slovacche dove su una questione neanche diciamo di identità costituzionale la corte costituzionale slovacche che fu la prima ad applicare concretamente la cosiddetta dottrina ultravires già elaborata dalla corte costituzionale tedesca ma non applicata ad applicarla disse a me non importa niente del principio di non discriminazione in base alla nazionalità quello era un problema che dopo la separazione tra ciechi e slovacchi i ciechi che diciamo lavoravano in Slovacchia prendevano una pensione più bassa devono avere un'integrazione pensionistica che riporti la pensione a dove era prima la corte europea la corte di giustizia dice sì però così non solo ai cittadini ciechi devi darlo a tutti i lavoratori e tutti i lavoratori europei che si trovano in quelle condizioni perché fai se no la discriminazione in base alla nazionalità la corte costituzionale dice no no questa è roba interna se è stata ultra vires e non ti applico e si arriva al risultato di questo tipo e oppure si arriva al risultato del forse più eclatante più recente della della tribunale costituzionale tedesco che con diciamo un uso anche questo forte e a volte forse spregiudicato sempre del controllo ultravire stanno a vedere se l'Unione Europea rispetta le competenze e che cosa è andata a fare è andata a sindacare la politica monetaria della BCE la politica monetaria della Banca Centrale chiedendosi se la Banca Centrale nell'esercizio della politica monetaria nelle scelte riconducibili al noto quantitative easing non avessi in realtà utilizzato la leva monetaria per perseguire scopi di politica economica e lo ha fatto dopo che la Corte di Giustizia aveva esaminato quel profilo aveva detto no non è illegittimo quell'atto e ha detto la Corte Costituzionale tedesca ha detto ma il tuo controllo è stato troppo deferente quindi anche tu sei ultra vires perché se non controlli non ti attieni al tuo mandato quindi lo riesercito vado a risindacare un atto della Banca Centrale un atto dell'istituzione comunitaria in contrasto col giudizio dato dal giudice comunitario ritenendo la sentenza non vincolante ritengo che ci siano dubbi di proporzionalità chiedo integrazioni per la vicenda si conclude nel senso che poi dice vabbè alla luce delle motivazioni che mi vengono date tutto sommato è proporzionata la scelta di politica monetaria del BCE però questo ci fa capire l'importanza di un uso come dire estremamente difensivo quasi offensivo dei controlimiti su temi delicatissimi come quelli della politica monetaria ad esempio per tralasciare il caso polacco e diciamo anche quello estremo e quello che ha detto il Tribunale Costituzionale polacco a proposito della sentenza della Corte di Giustizia che censurava la riforma in senso no antidemocratico dell'ordinamento giudiziario ma rimanendo appunto a stati come dire dove la tradizione della cosiddetta rule of law è più forte come appunto la Germania ma noi tutti ricordiamo qualche anno fa l'apprensione dell'Europa intera quando aspettavamo la sentenza della Corte Costituzionale tedesca ad esempio sul MES sul fondo salva stati e lì si temeva che se fosse bocciato il fondo salva stati alcuni stati potessero fallire perché anche quello avrebbe bloccato la politica monetaria della BCE quindi non c'è dubbio che questi esempi cosa dimostrano? E dimostrano che qua il conflitto tra identità costituzionale e unità diciamo europea è un conflitto effettivamente qui drammatico e difficilmente risolvibile se non in un'ottica diversa che non può essere quella offensiva nazionalista qualcuno dice sovranista del controlimite che alcune corti costituzionali tipicamente quelle dell'Europa centro orientale ma purtroppo non solo hanno attivato nel corso degli ultimi anni ma serve come molti oggi dicono e come a mio avviso molto virtuosamente la nostra giurisprudenza costituzionale ha iniziato a fare un uso dialogico e collaborativo dei controlimiti che è l'unico uso possibile la corte costituzionale nel noto caso Taricco in cui si dice per la prima volta forse utilizza i controlimiti ne fa un uso dialogico nel senso che di fronte alla sentenza Taricco 1 dice guarda che qui noi abbiamo una peculiarità del nostro ordinamento costituzionale la prescrizione appartiene al diritto penale sostanziale questa tua regola rischia di minare la nostra identità costituzionale ma non va ad attivare il controlimite a dichiararla incostituzionale chiede alla corte collabora con la corte in stare a un dialogo cerca un patto interpretativo e lo trova e lo trova perché la corte di giustizia alla fine nella Taricco 2 di fatto si rimanga alla Taricco 1 e quel problema viene in qualche modo risolto e abbiamo un uso dialogico e costruttivo dei controlimiti che porta anche ad una alla fine cosa ad un innalzamento del livello di tutela dei diritti perché questi profili di identità costituzionale pian piano entrano e come dire nel sistema costituzionale europeo quindi progressivamente c'è un avanzamento del livello di tutela oppure pensiamo ancora alla sentenza della corte sul cosiddetto diritto al silenzio nei procedimenti formalmente amministrativi ma sostanzialmente punitivi anche lì la corte è stata collaborativa nel senso che di fronte ad una norma che conculca il diritto di difesa di derivazione comunitaria e a fronte come dire della possibile contestuale violazione sia della costituzione sia della carta di inizia la corte ancora una volta anziché andare dritta per la sua strada e dire ah ma qua contro limite diritto di difesa non puoi costringere a parlare contro di sé si rivolge alla corte di giustizia in una situazione non scontata perché c'era la norma comunitaria che prevedeva di punire chi non parla e quindi che non prevedeva il diritto al silenzio perché c'era una giurisprudenza della corte di giustizia sui procedimenti antitras della commissione europea in cui comunque il diritto al silenzio non veniva tanto riconosciuto eppure anche lì col dialogo la corte di giustizia si convince che effettivamente quella normativa contrasta con la carta dei diritti fondamentali viene dichiarata incostituzionale quella è un'altra sentenza molto importante perché dimostra dove può portare l'uso collaborativo e dialogico del contro limite e dimostra anche un'altra cosa diciamo che si collega a questo tema perché non c'è dubbio che nel rapporto con l'Unione Europea il tema dei controlimiti richiede necessariamente un dialogo tra corti supreme tra corte costituzionale e corte di giustizia noi sappiamo che nel nostro ordinamento per molto tempo la corte costituzionale questo dialogo si è rifiutata di farlo perché prima del 2008 la corte costituzionale non faceva rimini pregiudiziali dicendo di non poterli fare che non le aspettava fino al 2013 se non ricordo male se il giudice comune andava dalla corte costituzionale prima di andare alla corte di giustizia diceva che la questione era inammissibile perché si doveva prima risolvere la questione pregiudiziale comunitaria si era autoesclusa dal dialogo con la corte di giustizia negli ultimi anni c'è stata una rivoluzione da questo punto di vista non solo perché la corte ha detto posso fare l'invio pregiudiziale lo posso fare sia nei giudizi in via principale sia nei giudizi in via incidentale ma perché ad un certo momento ha detto con la storica diciamo ordinanza 269 del 2017 ha detto preferibilmente venite da me se c'è una questione di doppia pregiudizialità doppia pregiudizialità intesa come contestuale violazione di diritti fondamentali costituzionali di diritti fondamentali tutelati dalla carta dell'Unione Europea preferibilmente venite da me perché è meglio che questa violazione venga risolta con una sentenza di incostituzionalità erga omnes che ha effetti erga omnes e quindi la legge venga eliminata per sempre piuttosto che con una disapplicazione una tantum quella sentenza quando venne pronunciata all'indomani molti gridarono a come dire alla rivoluzione nel senso che si pensava che fosse un arretramento rispetto alla sentenza granita rispetto al principio di primazia si pensava che la Corte volesse riappropriarsi di un controllo di costituzionalità centrato almeno in certi casi sulle leggi anticomunitarie in realtà non è stato così la Corte ha come dire introdotto un criterio preferenziale di priorità della questione di costituzionalità in certi casi rispetto a quella comunitaria non può che essere tendenziale preferenziale non vincolante questo criterio la Corte di giustizia sui rapporti tra questione di costituzionalità e questione pregiudiziale ha una giurisprudenza significativa che riguardava soprattutto la Francia dove la questione di costituzionalità viene spessamente definita prioritaria la Corte di giustizia ha detto guarda per quanto prioritaria possa essere nessuna norma potrà mai impedire al giudice comune di disapplicare la norma anticomunitaria di andare anche alla Corte di giustizia di adottare qualsiasi misura egli ritenga necessario per assicurare la primazia questo vale anche da noi la Corte poi lo ha chiarito ma quello è un criterio tendenziale è una sorta ancora una volta di patto di gentleman agreement che cerca con i giudici comuni e che cerca anche con la Corte di giustizia perché la Corte dice non preoccupatevi sarò io a coinvolgere la Corte di giustizia sarò io a coinvolgere la Corte di giustizia a cercare con la Corte di giustizia una soluzione concordata ma è l'unico modo per dialogare sui controlimiti infatti la famosa sentenza sul diletto a silenzio e che rappresenta forse il punto massimo della collaborazione dell'uso dialogico è frutto dell'applicazione della teoria della doppia pregiudizialità quella era una questione di doppia pregiudizialità si va alla Corte Costituzionale la Corte Costituzionale che si era resa disponibile ad andare alla Corte di giustizia cerca il dialogo alla Corte di giustizia e risolve appunto la questione e quindi si arriva alla fine a cosa? ad un innalzamento del livello di tutela senza creare conflitti insomma il quadro è sostanzialmente a mio avviso questo il problema la criticità l'attualità dei controlimiti è sostanzialmente questo noi oggi possiamo immaginare appunto due approcci sui controlimiti ma certamente l'approccio definiamolo difensivo statalista sovranista che hanno utilizzato anche recentemente alcuni stati alcune corti costituzionali e diciamo rischia effettivamente di far naufragare un valore fondamentale dell'Unione Europea e di metterlo in serio pericolo l'unico approccio possibile è questo che seguono la nostra Corte Costituzionale ma anche altre prima citavo il caso Melloni beh anche nel caso Melloni il Tribunale Spagnolo collaborò perché poi la luce di quello che disse la Corte Giustizia cambiò un po' la propria giurisprudenza e diciamo del resto come dire quell'approccio di diffidenza che porta a rivendicare fortemente l'identità costituzionale nazionale contro i controlimiti e che caratterizza peraltro diciamo storicamente alcuni paesi diciamo che sono quelli dell'Europa Centro-Orientale che hanno comunque costituzioni che hanno matrici dovraniste comunque quello è un approccio che certamente figlio e si diffonde anche in altri ambiti in altri ambiti Germania anche in Danimarca da cui provengono pure diciamo sentenze ardite sui controlimiti certamente in una fase storica di come dire di antipatia verso l'Unione Europea noi abbiamo vissuto un periodo di forte avversione proprio anche a livello sociale l'Unione Europea vista non come unione di diritti ma come unione burocratica e quindi è nota diciamo è noto ciò che ha alimentato un po' ovunque la diciamo il filone anti-europeista ecco non c'è dubbio che le drammatiche vicende degli ultimi anni no prima la pandemia e poi oggi purtroppo il conflitto bellico hanno da questo punto di vista a mio avviso cambiato l'Unione Europea innanzitutto hanno cambiato fortemente l'Unione Europea e anche diciamo la sensibilità della società civile rispetto all'Unione Europea e quindi di riflesso anche la sensibilità delle istituzioni nazionali anche quelle di paesi più forse tradizionalmente sovranisti nei confronti diciamo dell'Unione Europea quindi questo può essere forse come dire dietro fine di anni drammatici come quelli che stiamo attraversando può essere forse questo cioè l'auspicio che questo possa alimentare la consapevolezza che l'unico modo per risolvere quello che altrimenti è un distidio incolmabile è un uso dialogico collaborativo evitando certamente di utilizzare quello sì i controlimiti per risolvere allora becchè meramente interni di politica giudiziaria e faccio riferimento al tentativo cui prima di pubblicare parlava il consigliere Santise l'eccesso di potere giuridizionale e quindi il temino la questioncina meramente interna dei motivi di giuridizione rimessa alla corte di giustizia che avrebbe scatenato un conflitto istituzionale visto che si era sul punto già pronunciata la corte costituzionale quindi probabilmente il tentativo di creare su un tema non sensibile sul piano dei diritti umani un conflitto istituzionale e poi faccio riferimento anche diciamo ad alcune difese corporative di interessi nazionali in cui spesso si invocano i controlimiti prima si citavano diciamo le plenarie e l'impatto che esso hanno avuto Presidente se ci abbiamo la conclusione perché abbiamo ritmi serratissimi grazie le plenarie e l'impatto che hanno avuto beh anche lì appunto quello diciamo non è evidentemente un tema dove possano venire in considerazione profili di controlimite e con questo concludo grazie grazie Presidente uno spaccato fantastico sui rapporti diritto interno diritto sovranazionale la sentenza della Corte Costituzionale sulla Sagata Ricco non a caso sarà definita un esempio di capolavoro tipo diplomazia da parte della Corte Costituzionale leggendo quella sentenza si vede come la Corte Costituzionale si è data più pizzichete sulla pancia per sollevare la questione do subito la parola al professor Aldo Travi e lo ringrazio per aver accettato il nostro invito chiedendogli naturalmente di rispettare i tempi perché siamo un po' lunghi grazie grazie anch'io come già prima i colleghi desidero ringraziare chi ha organizzato questo incontro questo incontro che per me è molto importante non 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 tanto perché come ho sentito dire da alcuni magistrati amministrativi con grande dimostrazione di modestia il confronto fra la giurisprudenza e la dottrina può essere utile per superare una certa autoreferenzialità nella giurisprudenza amministrativa e per avviare un dialogo con idee diverse io devo dire che ritengo molto importante questo incontro soprattutto per l'università e per l'accademia perché perché il diritto amministrativo vive della concretezza e le ragioni del diritto amministrativo stanno nella concretezza e il pericolo che oggi affronta maggiormente lo studio del diritto amministrativo nelle aule universitarie è quello invece di diventare estremamente astratto quindi da parte mia molta gratitudine per questo incontro che è assolutamente utile dal versante appunto universitario ho poco da aggiungere a quello che ha già detto il presidente Giovagnoli e che condivido pienamente mi sembra che i punti fondamentali che lui ha messo in luce siano rappresentati dalla centralità e dalla crucialità della teoria dei controlimiti centralità perché i controlimiti sono un elemento strutturale nel rapporto fra diritto nazionale e diritto europeo dove per diritto nazionale e diritto europeo non intendiamo soltanto il complesso delle norme non è un problema limitato di individuazione della norma applicabile sulla base di un criterio di competenza o in certi casi addirittura di gerarchia e il punto è che in discussione è la relazione fra l'ordinamento europeo e gli ordinamenti nazionali e quindi è il modo di essere dell'Unione Europea in una situazione nella quale non valgono i principi di uno Stato federale ma nello stesso tempo c'è stata una decisione sovrana che ha previsto la limitazione di poteri istituzionali degli Stati membri e nello stesso tempo i controlimiti rappresentano un profilo cruciale rappresentano un profilo cruciale secondo me proprio per quello che ha posto in luce il Presidente Giovagnoli e cioè perché l'interpretazione dei controlimiti che viene data dalle diverse corti nazionali non è assolutamente omogenea e credo che ci sia ormai una convinzione comune in tutti i Paesi europei della vigenza di un principio dei controlimiti che salvaguardia entro certi limiti l'ordinamento nazionale ci sono quattro carte costituzionali di Paesi dell'Europa che lo richiamano espressamente e ci sono in altri quattro Paesi delle giurisprudenze costituzionali ormai molto ricche su questi temi però quale sia esattamente la portata dei controlimiti quali principi debbano essere identificati come controlimiti questo non è assolutamente pacifico non è assolutamente pacifico e non è assolutamente condiviso e come in sostanza ci ha ricordato il Presidente Giovagnoli le divergenze non sono divergenze formali non sono divergenti riconducibili semplicemente a modalità di interpretazione delle norme costituzionali nazionali sono divergenze di fondo che riguardano la cultura giuridica di ciascun Paese e che riguardano soprattutto l'atteggiamento di ciascun Paese nei confronti delle istituzioni europee un atteggiamento che in alcuni casi è di sincera collaborazione e di altri casi invece è di non celata di fidenza ora in questo contesto io penso che sia opportuno cercare innanzitutto di individuare quali siano le ragioni per le quali in passato si è dubitato dell'attualità della teoria dei controlimiti può sembrare abbastanza singolare che dopo le affermazioni che sono state appena richiamate si apra un interrogativo sulla attualità dei controlimiti non è soltanto dovuto all'intitolazione di questa sezione del nostro incontro di studi è dovuto al fatto che il tema dei controlimiti ha avuto una sua evoluzione particolarmente evidente negli ultimi 15 anni da una parte nell'ordinamento europeo introduzione nell'articolo 4 del trattato dell'unione europea della salvaguardia delle tradizioni nazionali ha certamente modificato la relazione tra la corte di giustizia e le diverse corti nazionali e d'altra parte l'elaborazione della carta dei diritti fondamentali e la sua ricezione nel trattato ha introdotto nuovi elementi di riflessione da parte della corte di giustizia ed ha avvicinato dal punto di vista sostanziale l'ordinamento europeo a molti ordinamenti nazionali quindi sempre più spesso ci troviamo di fronte a problemi che riguardano l'osservanza di diritti che sono problemi che attengono sia alla conformità di certe regole con l'ordinamento costituzionale nazionale sia alla conformità di quelle stesse regole con l'ordinamento comunitario con i trattati e con la carta dei diritti fondamentali e questo naturalmente ha un effetto importante nel ridurre perlomeno la drammaticità del problema dei controlimiti nel senso che una volta che si ha a che fare con ordinamenti che sono sempre più simili vicini e che affermano dei principi analoghi le occasioni di conflitto si riducono c'è poi un secondo versante da tenere in considerazione che è rappresentato dall'orientamento della Corte Costituzionale allora l'orientamento della Corte Costituzionale ha secondo me un appunto di riferimento in negativo che è rappresentato da una nota sentenza del Consiglio di Stato della quinta sezione dell'agosto 2005 in materia di diritto farmaceutico con la quale il Consiglio di Stato aveva invocato la teoria dei controlimiti per non applicare una normativa comunitaria in discussione era l'individuazione dei soggetti che potevano acquisire partecipazioni in farmacie la Corte Costituzionale aveva dichiarato in Costituzionale una legge nazionale che consentiva anche a chi avesse interessi nell'industria farmaceutica di acquisire delle farmacie il Consiglio di Stato nella sentenza ad menta del 2005 aveva ritenuto che sulla base dell'affermazione della Corte Costituzionale fosse identificabile un controlimite che impedisse l'applicazione del diritto comunitario e quindi aveva aperto la strada a un utilizzo del controlimite in funzione di un controllo diffuso rimesso al giudice che doveva applicare la norma e che doveva confrontarsi nel rapporto fra la norma nazionale e la norma comunitaria e a questa pronuncia del Consiglio di Stato la Corte Costituzionale replicò nel 2006 nel dicembre del 2006 sostenendo che l'applicazione dei controlimiti coinvolgeva necessariamente l'intervento della Corte Costituzionale e le prerogative della Corte Costituzionale che il controllo avrebbe dovuto essere necessariamente un controllo di tipo accentrato e che il giudice nazionale non poteva rifiutarsi di applicare la normativa comunitaria invocando i controlimiti se effettivamente c'era uno spazio per i controlimiti semmai si doveva discutere in termini di costituzionalità delle norme nazionali che imponevano l'applicazione del diritto comunitario e questo ha ridotto già di per sé notevolmente lo spazio di attrito tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario perché ha riservato alla Corte Costituzionale una parola decisiva vorrei aggiungere che la Corte Costituzionale è intervenuta successivamente precisando meglio la sua posizione e come ha ricordato il Presidente Giovagnoli ha individuato da ultimo un rapporto fra la rimessione alla Corte di Giustizia e la proposizione della questione di legittimità Costituzionale ammettendo addirittura che tendenzialmente tendenzialmente ha detto giustamente il Presidente Giovagnoli il riferimento alla Corte Costituzionale debba essere privilegiato perché conduce a una sentenza che fra l'altro ha degli effetti ben diversi della disapplicazione di una norma nazionale da parte di un giudice ora sottolineo il riferimento al tendenzialmente perché questo tendenzialmente non vuole dire che di regola si debba preferire il rinvio alla Corte Costituzionale rispetto alla rimessione alla Corte di Giustizia nelle sentenze più recenti in cui la Corte Costituzionale ha esaminato il problema mi riferisco per esempio a una sentenza dei mesi scorsi la numero 67 del 2022 la Corte Costituzionale ha bacchettato la Corte di Cassazione che aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale di una certa disposizione dopo che la Corte di Giustizia aveva rilevato l'incompatibilità di quella disposizione con l'ordinamento comunitario e la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione perché la Corte di Cassazione non aveva cercato un'interpretazione della norma nazionale che fosse coerente con l'ordinamento comunitario e cioè non aveva ricostruito l'ordinamento in termini coerenti con l'ordinamento comunitario il che è estremamente significativo perché sta a significare che come uno dei criteri fondamentali per la rilevanza delle questioni davanti alla Corte Costituzionale è quello di aver cercato un'interpretazione conforme della legge nazionale così la Corte Costituzionale esige da parte del giudice che invochi la tematica dei controlimiti l'aver ricercato comunque in modo oggettivo onesto e intenso una lettura della norma compatibile con l'ordinamento comunitario ed è chiaro che anche in questo modo si finisce col ridurre gli spazi di contrasto e poi da ultimo la stessa Corte Costituzionale negli ultimi anni direi negli ultimi 15 anni ha dimostrato una maggiore flessibilità che qualcuno riporta alla tematica del dialogo fra le corti io non sono particolarmente entusiasta di dialogo fra le corti perché penso che il dialogo fra le corti evochi una sorta di contatto culturale che riguarda soltanto i vertici degli ordinamenti giudiziari ho l'impressione che più che di dialogo delle corti si possa parlare di una riflessione meditata che tiene conto degli argomenti delle altre parti ma che coinvolge in modo molto ampio la scienza giuridica di un paese e la cultura giuridica di un paese certo è che la Corte Costituzionale italiana ha cambiato l'opinione su alcuni punti fondamentali per l'influsso della Corte di Strasburgo nel 2007 ha modificato la propria posizione in termini di misura dell'indenità di es proprio più recentemente ha modificato la propria posizione in materia di sanzioni amministrative di principio di legalità rispetto alle sanzioni amministrative e in materia di retroattività delle sanzioni amministrative se posso esprimere una considerazione personale io sono convinto che più che di influenze del diritto europeo nelle sue due versioni il diritto della Corte di Strasburgo e il diritto delle Corte di Lussemburgo qui emerge una prospettiva molto più generale e cioè gli argomenti deboli della giurisprudenza quelli che sono spresso il frutto di tradizioni consolidate ma di cui si è perso il significato effettivo sono proprio i primi a cadere nel momento in cui ci si confronta con delle corti stranieri e così e così si può arrivare alla conclusione che forse il problema dei controlimiti ha una sua dimensione istituzionale certamente cruciale e non risolta soprattutto rispetto ad altri ordinamenti ma che rispetto all'ordinamento nazionale finisce con l'essere di un'importanza pratica ridotta tocca soprattutto certi ambiti per esempio un aspetto che non può sfuggire è che il tema dei controlimiti ha assunto una rilevanza particolare in tutte le occasioni in cui forse è in gioco la libertà personale e l'applicazione di principi fondamentali in materia di sanzioni soprattutto di sanzioni penali se si esamina la giurisprudenza amministrativa del tale del Consiglio di Stato in materia di controlimiti le sentenze che hanno affrontato questo tema sono circa una trentina ecco si nota con evidenza che la teoria dei controlimiti viene richiamata sistematicamente dalle parti tutte le volte che si vuole evitare l'applicazione del diritto comunitario ma che fino adesso non ci sono mai stati dei problemi particolari da parte del giudice per rilevare che questa teoria dei controlimiti non era stata adeguatamente richiamata vorrei però concludere richiamando due considerazioni importanti la prima è rappresentata da una parere del Consiglio di Stato di cinque anni fa che ho ritrovato mentre cercavo tutta la giurisprudenza sui controlimiti sul motore di ricerca della giustizia amministrativa e che è abbastanza interessante riguardava l'emanazione da parte del Ministero dell'Interno di un regolamento e si si cercava di capire quale fosse il fondamento del potere regolamentare del Ministero dell'Interno e questo parere del Consiglio di Stato 4 febbraio 2016 numero 305 affronta la teoria dei cosiddetti poteri impliciti che era stata invocata dal Ministero dell'Interno per giustificare l'emanazione di questo regolamento e a questa teoria oppone il principio di legalità è un tema particolarmente discorso controverso tutte le volte che parliamo di autorità indipendenti ci scontriamo con questo tema ecco però mi è sembrato molto significativo il fatto che quando si confrontava il rapporto fra il principio di legalità e la teoria dei cosiddetti poteri impliciti la prima sezione del Consiglio di Stato avesse richiamato la teoria dei controlimiti non perché in discussione fosse il diritto comunitario ma perché secondo la prima sezione il richiamo al principio di legalità identificava una regola che non poteva essere assolutamente messa in discussione e anche la possibilità di richiamare la teoria dei poteri impliciti che è adottata per quanto riguarda l'assetto degli organi dell'Unione europea incontrava come limite fondamentale in questa questione che era di diritto interno che era esclusivamente di diritto interno l'applicazione del principio di legalità e la seconda e ultima considerazione ecco è rappresentata dalla circostanza che sì nella giurisprudenza amministrativa le pronunce che hanno affrontato il tema dei controlimiti non sono tantissime e come ho detto si concludono tutte nel riconoscere che non c'era uno spazio per applicare correttamente questa teoria però l'importanza di un principio nel diritto non è legata esclusivamente al fatto che di questo principio si faccia un'applicazione frequente è legata all'importanza che ha quel principio rispetto a un'architettura complessiva dell'ordinamento e i controlimiti ci richiamano costantemente l'esistenza di una struttura fondamentale nel nostro ordinamento costituzionale e il carattere rinunciabile di alcuni diritti fondamentali da questo punto di vista la teoria dei controlimiti mi sembra assolutamente attuale e fondamentale al di là della circostanza che la sua applicazione pratica possa essere assolutamente contenuta grazie grazie professor Travi per il suo intervento ribadisco che la diciamo utilità è reciproca sia per noi sia per voi come è dimostrato da tante sentenze che ormai espongono orientamenti contrastanti ma hanno sempre una parte anche di motivazione dedicata agli orientamenti della dottrina grazie davvero l'ultimo intervento gli ultimi due interventi della mattinata si riferiscono a un tema possiamo dire da sempre contestato abbiamo visto fino adesso tutti i argomenti tutti i temi che toccati dalle adunanze penari questo è un tema sapete bene andato in adunanza penaria ma l'adunanza penaria non si è poi pronunciata per motivi processuali l'ubicon system della perdita di chance nel diritto amministrativo do la parola al presidente Mara Abruzzese grazie grazie Maurizio ora naturalmente parlare alle 13 e 15 di un tema controverso di diritto amministrativo è complicato di per sé è ancora più complicato è ancora più complicato se dobbiamo affrontare questo tema con la premessa che ci ha fatto il consigliere Santisi cioè che al momento una definizione chiara della chance in diritto amministrativo non c'è perché la plenaria non ha ancora detto la sua definitiva sulla sulla questione allora diventa particolare anche come dire la titolazione di questo step del convegno l'ubicon system della perdita di chance rimanda un po' al motto di Archimede dammi un punto di appoggio e in quel caso lì lui intendeva sollevare il mondo qui diciamo molto meno pretenziosamente noi cerchiamo soltanto di capire che cosa sia la chance se la definizione di chance come si è enucleata finora essenzialmente nella giurisprudenza civilistica possa tenere rispetto al nostro sistema di giustizia amministrativa e quali poi ne siano le conseguenze sul piano diciamo della tecnica di tutela e in concreto della quantificazione poi dei danni allora diciamo partiamo dal come dire dal concetto normale di chance al concetto comune di chance che è un concetto di per sé insomma ambiguo perché innanzitutto qualcuno dice incorporeo perché non ha riferimento a un bene fisico non ha riferimento per meglio dire alla dimensione fisica dei beni oggetto di diritto ha piuttosto a che fare con la probabilità di un'acquisizione futura e già come dire la difficoltà di questa definizione ci dà modo di capire quale sia la difficoltà intrinseca del concetto perché facciamo riferimento a un evento probabile e a un evento futuro cioè due elementi che escludono di per sé la certezza e quindi come dire il punto di appoggio a cui faceva riferimento ripeto l'antitolazione dello step del convegno è un'idea però questa che nella nostra società qualcuno dice liquida quella che cioè studia più la potenza e potenzialità dell'essere piuttosto che l'essere in sé secondo me è destinata ad espandersi in maniera piuttosto come dire esponenziale perché si pensi ad esempio alle società di rating che addirittura valorizzano quello che il sistema può diventare piuttosto che quello che il sistema è ed ha addirittura un valore a questa quantificazione delle potenzialità del sistema a ben vedere qualsiasi situazione soggettiva è in sé in grado di come dire prevedere uno sviluppo futuro e anche questo dà conto come dire della dimensione ampia del fenomeno di cui il diritto si deve necessariamente occupare e questo è un punto allora la base normativa dalla quale si parte per ennucleare la nozione di chance è come tutti sappiamo l'articolo 1223 del codice civile che riguarda l'inatempimento contrattuale e che si occupa di stabilire le coordinate del risarcimento integrale nel caso di inatempimento contrattuale e che per il tramite del 2056 viene poi esteso anche al risarcimento dei danni da illecito extra contrattuale quindi torniamo alla nostra idea di chance l'idea comune di chance possibilità di conseguire un bene che è caratterizzata naturalmente da una possibilità di successo non priva di consistenza presumibilmente non priva di consistenza che entra però nel diritto e questo è singolare nel momento in cui se ne accerti la perdita quindi la chance diventa rilevante per il diritto quando c'è la chance perduta quando c'è la perdita della chance e non come diciamo elemento in sé in caso abbiamo detto di un fatto di inadempimento o di un fatto di decito extracontrattuale come danno oppure come componente di danno e quindi un interesse meritevole di tutela che per il tramite della clausola aperta di cui l'articolo 2043 diventa risarcibile e la cosa interessante poi della chance è come dire la sua relazione con la causalità che entra secondo me nella chance diciamo da due punti di vista differenti per capire in che modo la chance venga lesa e quindi la problematica del nesso causale diciamo dell'inadempimento dell'illecito ma che nella chance gioca anche un ruolo come si dice pro futuro dobbiamo andare a guardare il nesso causale in avanti piuttosto che in indietro per andare a capire quali sono poi le conseguenze di questa perdita della chance e queste conseguenze sono poi diversamente valutate a seconda per l'appunto di come si intende a definire la chance naturalmente il punto di partenza è capire come questa chance è entrata nella giurisprudenza e dobbiamo necessariamente fare riferimento a quello che ha detto la giurisprudenza civile perché ovviamente per quanto riguarda le tematiche di salcitori noi siamo arrivati un po' più avanti rispetto al giurisprudenza civile nel momento in cui emerge la tematica della chance nella giurisprudenza civile affardata dagli anni 80 la prima sentenza è dell'83 e riguarda un ambito giusto e lavoristico dove si andava a tutelare come dire la possibilità per il lavoratore di esprimersi nell'ambito del rapporto lavorativo e quindi di progredire in questo tipo di rapporto quindi un ambito diciamo diverso da quello nel quale poi si è esercitata almeno nei primi tempi la giurisprudenza amministrativa ora nei primi casi esaminati dalla giurisprudenza e anche un po' oltre è chiaro che la chance viene ricostruita come dimensione autonoma quindi scissa dal risultato finale bene della vita diremmo noi al quale la chance tende leggo una sentenza della castrazione che risale al 2008 nella quale si enuncia che la chance è risarcibile come danno alla situazione di che trattasi chiaramente si dice indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio non ci interessa se il vantaggio sarà probabilmente o possibilmente verificato quel che ci interessa è che c'è all'attualità la perdita della chance continua la castrazione quello che poi si dovrebbe verificare per effetto della perdita della chance quello che si sarebbe verificato se la chance non fosse stata perduta può rilevare castrazione 2008 soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno questa diciamo è l'enucleazione nella prima giurisprudenza civile diciamo nell'evoluzione della teoria quella che sarà poi definita come teoria ontologica della chance cioè la chance rileva come lesione in sé a prescindere da quello che sarebbe stato l'evolversi della situazione soggettiva se la chance non fosse stata perduta cioè non si fosse interposto il fatto lesivo che ha impedito il naturale svolgersi della dimensione potenziale del soggetto che cosa succede nella giurisprudenza civile che se ne occupa in ambiti diversissimi abbiamo detto l'ambito giustelavoristico dal quale poi parte tutta l'evoluzione però naturalmente la giurisprudenza è sconfinata e troviamo ipotesi di applicazione del risarcimento della perdita della chance ad esempio molto frequentemente nell'ambito della responsabilità sanitaria così come nella responsabilità da fatto illecito in generale il sinistro di autostradali stradali semplici ma anche nella responsabilità professionale uno dei casi diciamo abbastanza eclatanti è quello della responsabilità professionale dell'avvocato il quale presenta l'appello tardivo e quindi impedisce al soggetto di poter utilmente esperire l'impugnazione indipendentemente dice in quel caso la Cassazione dal sé l'appello o l'impugnazione avrebbe potuto avere o meno esito favorevole però che cosa succede? Che il danno da perdita di chance facciamo il caso della responsabilità sanitaria spesso si va a cumulare con altre componenti di danno il che impone al giudice una valutazione effettivamente equitativa per evitare che il risarcimento come dire diventi eccessivo eccessivamente gravoso per il debitore che quello deve subire nel caso della responsabilità sanitaria noi per esempio abbiamo certamente delle conseguenze elesive sul danno biologico del soggetto danneggiato il quale però invocherà probabilmente anche la perdita della capacità lavorativa ad esempio quindi noi abbiamo il cumulo del danno biologico e del danno da perdita di chance quello che il soggetto avrebbe potuto fare in futuro questo porta a una riflessione secondo me del giudice civile onde limitare le conseguenze diciamo risarcitorie sul debitore per cui dalla originaria teoria ontologica la giurisprudenza civile poi come dire naturalmente trasmigra verso una soluzione che ha appunto quello scopo e arriviamo alla cosiddetta teoria eziologica la teoria eziologica è quella secondo cui di chance non si può parlare e dunque non si parla di chance risarcibile quando le probabilità di verificazione dell'evento favorevole non sono come dire elevate a un certo grado di quantificazione naturalmente si capisce subito che c'è un problema dove stabiliamo il limite diciamo di questo livello minimo di probabilità il 50 cioè del criterio del più probabile che non il 40 il 30 il 10 diventa arbitrario anche solo quantificare un limite minimo diciamo per poter ennucleare il concetto di chance cioè la chance minima che cos'è per la per la Cassazione quando si dice in senso comune non è la minima chance di avere di procurarti un vantaggio o di ottenere un effetto favorevole la minima chance bisogna in qualche maniera quantificarla e diventa probabilmente arbitrario anche solo stabilire che questa chance si debba attestare al 10 al 15 al 20 o al 50 più 1 per cento si arriva quindi mi pare di capire a una situazione per la giurisprudenza civile vi segnalo una pronuncia recentissima della Cassazione sezione sesta me l'ha per la verità segnalata Enrico Foglieri stiamo parlando della ordinanza 52-31 della Corte di Cassazione sezione sesta 17 febbraio quindi sostanzialmente il mese scorso la Corte in questo caso rigette il ricorso perché dice la perdita di chance è risarcibile soltanto quando si provi il nesso di causalità tra l'inadempimento e danno in termini prossimi alla certezza essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell'esito favorevole chiaramente vi rendete conto che il percorso sembrerebbe diciamo regredito di 15 anni rispetto alla sentenza che vi avevo invece segnalato prima quella del 2008 ed è singolare questa fattisprecia esaminata dalla Cassazione perché è un caso di come dire mancata possibilità per una aspirante dottoranda di ricerca di fare di essere sottoposta a valutazione perché semplicemente non era arrivata per tempo la raccomandata che la convocava per le prove quindi semplicemente per questo fatto che chiaramente si pone come nesso di causalità essenziale rispetto poi all'evento dannoso non aver potuto sostenere l'esame e dunque non aver potuto aspirare a conseguire l'evento però quella è stata la conclusione della Cassazione per completezza devo dire che nella sentenza si dice anche che la ricorrente a sostegno del rigetto non aveva dimostrato la fondatezza della domanda che doveva basarsi su numero di partecipanti risultato delle prove presenza di elementi dei quali disumere che la sua partecipazione agli esami avrebbe avuto ragionevoli probabilità di condurre al successo io ho il dubbio diciamo che questa rigorosa conclusione dipenda probabilmente dalla genericità con cui era stata poi formulata quella domanda e dunque questo è come dire l'esito più recente della giurisprudenza civile e per il diritto amministrativo dunque la prima questione da porsi è come dicevo forse in anticipo se la scienza si atteggia diversamente per il diritto amministrativo rispetto al diritto civile perché pongo questa questione diciamo che è una questione per la verità che ho sentito aleggiare fin da stamattina diciamo in questo convegno pluritematico e bipartito ecco se possiamo dire così se cioè si possa configurare una specificità del diritto amministrativo che valga a ridefinire anche fatti specie che trovano applicazione nel diritto civile e qual è diciamo il proprium del diritto amministrativo che dovrebbe differenziarlo anche ai fini della definizione del concetto di chance ovviamente la necessaria intermediazione del potere pubblico nella naturale proiezione del soggetto quindi se facciamo riferimento a quella definizione diciamo comune che avevo dato prima se potenzialmente il soggetto è in grado di esprimere un certo sviluppo a un certo punto deve passare per forza per l'intermediazione del potere pubblico che quella potenziale evoluzione venga a regolare nel senso ad esempio di concedergli un'autorizzazione piuttosto che di consentirgli l'aggiudicazione di una gara e così via quindi non c'è una naturale diciamo evoluzione c'è comunque un passaggio intermedio che è l'intermediazione del potere pubblico cioè se vogliamo dirla più diciamo chiara lo sviluppo della situazione potenziale non è lineare a un certo punto bisogna passare per l'intermediazione del potere pubblico per il provvedimento per il procedimento nel quale questo potere pubblico deve essere esercitato quindi se torniamo al ragionamento di prima chance dobbiamo guardare al nesso causale indietro per capire qual è la causa che produce la lesione e il nesso causale in avanti per vedere quali sono le potenziali conseguenze o sviluppi della situazione potenziale beh qui abbiamo un'intermediazione netta un passaggio netto che è quello dell'esercizio del potere e questo potrebbe già essere un punto di differenza rispetto alla situazione normale di diritto civile c'è poi un altro un altro un altro problema la chance nel diritto amministrativo ovvero la perdita della chance si riferisce non ovviamente a situazioni di diritto ma a situazioni di interesse quindi noi dobbiamo anche distinguere che cosa è perdita della chance rispetto alla situazione soggettiva che la giustizia amministrativa è tesa a tutelare cioè quale sia il rapporto ad esempio tra chance e interesse legittimo nella sua forma pretensiva perché anche lì noi abbiamo riguardo come dire a un possibile sviluppo dell'azione amministrativa tendente a un risultato favorevole ora devo dire che anche qui le prime applicazioni della questione della perdita della chance faccio riferimento a una sentenza sezione sesta anche qui del 2006 ecco quindi diciamo stiamo parlando di 15 anni fa e nucleava in maniera veramente chiara diciamo la teoria ontologica cioè quella stessa che era stata applicata dalla Cassazione e lo faceva in uno dei casi diciamo che sono quelli maggiormente arati in questa tematica cioè quello degli appalti pubblici la questione 5323 del 2006 questione complessa perché aveva originato anche un invio un rinvio alla corte di giustizia era una originava da una gara nella quale erano stati ritenuti erano stati ritenuti illegittimi alla giudicazione perché i criteri la questione era se i criteri dovessero essere indicati nel bando oppure potessero essere potessero essere indicati successivamente dalla commissione di gara la faccio breve si arriva all'annullamento della giudicazione con obbligo di rieditare di rinnovare il procedimento ora la sezione sesta 2006 nonostante avesse come dire offerto tutela all'interesse legittimo pretensivo ordinando in via conformativa la riedizione del potere riconosce tuttavia anche il danno da perdita da chance come bene autonomo e diverso rispetto al bene della vita che era possibile ottenere attraverso diciamo il positivo esperimento del nuovo procedimento di gara io credo che qui ecco non lo si dice in maniera espressa però è come se diciamo la riedizione del potere non ricostituisse la stessa posizione originaria cioè per capirla la stessa chance ma di fatto costituisse una nuova chance una seconda chance diremmo noi per cui la prima era definitivamente perduta perché perché in quel caso dovendo rifare la gara dovendo come dire stabilire le nuove regole sta di fatto che la prima la possibilità che l'impresa aveva tentato di diciamo esperire era andata definitivamente perduta ora ripeto non lo si dice espressamente però immagino che questo sia stato un po' il ragionamento anche la giurisprudenza amministrativa così come la giurisprudenza civile come dire fa lo stesso percorso segue la stessa traiettoria partiamo dall'ontologico poi a un certo punto ci si rende conto probabilmente che si allargano un po' troppo le maglie esercitorie cominciamo a capire e a chiederci ma non è che questa chance deve essere in se stessa più consistente cioè deve essere qualificata da un grado superiore di probabilità di verificazione dell'evento favorevole questo dubbio che a legge nella giurisprudenza amministrativa ma abbiamo visto non è stato risolto neanche nella giurisprudenza civile ci porta alla plenaria del 2018 che si conclude come diceva Maurizio Santis con una ordinanza quindi non con una sentenza è la 7 del 2018 nella quale la duranza plenaria non si pronuncia questo chiaramente è l'esito non si pronuncia sul quesito che era stato sollevato dalla quinta sezione remittente dobbiamo scegliere diceva la quinta sezione remittente tra teoria ontologica e teoria eziologica il problema qual era il problema era che nel caso di specie era stata accertata la lesione se vogliamo dire perché in ogni caso si trattava di una di un affidamento diretto di una di una certa di una certa gara pubblica alla quale avrebbero potuto partecipare cinque possibili possibili aspiranti quindi era già stato riconosciuto a monte che in effetti le probabilità di successo erano del 20% una su cinque a questo punto la plenaria che dice l'avete già detto che la lesione c'è che la probabilità di successo era del del 20% io non posso a questo punto rimeditare la questione perché in buona sostanza tu già sei andato troppo avanti nella diciamo qualificazione del fatto e anche diciamo nei suoi effetti ai fini risarcitori e sembrerebbe quindi che la plenaria come dire pronunci un non liquid al momento non posso decidere secondo me invece la plenaria va letta con molta maggiore attenzione perché perché nel momento in cui dice non posso entrare nel merito perché tu già sei andato troppo avanti dice anche che e lo dice alla sezione remittente ma secondo me lo dice un poco a tutti qui la questione non è la stratta risarcibilità della chance cioè scegliere tra ontologico e eziologico ma cito la plenaria implica rilevanti conseguenze in ordine alla qualificazione della natura giuridica della figura identificazione degli elementi costitutivi accertamento dell'ingiustizia del danno nesso di causalità accertamento probatorio grado di certezza consistenza della situazione soggettiva eventuali criteri di liquidazione del danno cioè vale a dire non ci dobbiamo fossilizzare non ci possiamo fermare soltanto a scegliere tra teoria ontologica e teoria eziologica dobbiamo riguardare la fattispecie nel suo complesso abis e infatti dice la plenaria sarebbero ben possibili quindi non ci fermiamo a eziologico e entologico sarebbero ben possibili percorsi ricostruttivi alternativi plenaria ovvero intermedi e comunque eclettici rispetto alla dicotomia tra teoria ontologica e teoria eziologica io postillo non dobbiamo seguire il giudice civile dobbiamo forse pensare diciamo come giudici amministrativi cercando di individuare una terza via una quarta via una via diversa comunque che potrebbe ben essere possibile allora nel momento in cui secondo me la plenaria dice guardiamo meglio secondo me già ha pensato anche che appunto non possiamo fermarci soltanto a quella distinzione e a quella dicotomia è come se insomma questa distinzione che si è originata ed è stata sviluppata in ambito civilistico per la giustizia amministrativa sia un po' una sorta diretto di propuste cioè andiamo stretti dobbiamo un attimo ragionare meglio e valorizzare probabilmente qualche elemento specifico del nostro sistema che cosa è successo che cosa è successo dopo abbiamo tenuto conto di questo monito dell'adunanza plenaria stiamo valorizzando questi elementi che la plenaria aveva considerato io qui segnalo un paio di tre un paio di sentenze nelle quali 62-68-2021 di riforma di una sentenza del TAR dove viene valorizzata ai fini diciamo della qualificazione della fattispecie la violazione di una norma di diritto pubblico che non ricomprende nel suo raggio di protezione l'interesse materiale ma assicura soltanto all'istante la possibilità di conseguire il bene quindi andiamo a vedere il proprio della situazione della situazione soggettiva ed ancora un'altra recentissima pronuncia questa è proprio della settimana scorsa 22-01 del 2022 pubblicata il 25 marzo del 2022 anche qui siamo sempre in ambito di affidamento senza gara anche qui obbligo di rifare la gara ma non di meno riconoscimento autonomo della perdita di chance per tutto il periodo in cui l'affidamento non aveva comunque avuto effetto perché o comunque per tutto il periodo in cui l'aspirante concorrente non aveva potuto concorrere perché c'era stato per l'appunto l'affidamento senza gara ora questa è importante al di là del percorso logico argomentativo serrato che fa perché diciamo supera anche un'obiezione che si potrebbe fare a questa ricostruzione della teoria ontologica secondo cui diciamo la chance si come dire andrebbe a sovrapporre bisogna vedere in che limiti rispetto all'interesse legittimo pretensivo quindi si è detto si è detto in passato lo si continua a dire per la verità nel momento in cui io ti tutelo l'interesse pretensivo mediante la rinnovazione della gara quindi in forma specifica non c'è più motivo di chance perché la chance viene ricostituita questione che come ho già detto prima era già stata per la verità superata nel 2006 dice questa sentenza della settimana scorsa non è ravvisabile i per protezione della chance di aggiudicazione rispetto al diritto dell'aggiudicazione in sé sono due cose diverse perché perché l'equivalente monetario nel caso di diciamo perdita del bene della vita connessa all'interesse pretensivo può giungere fino al 100% del mancato utile mentre nel primo nel primo caso cioè quello della perdita di chance va scontato in base al grado di incertezza degli esiti di una gara mai mai esperita e quindi diciamo si distingue chiaramente tra le due le due situazioni si dice una volta che tuteli l'uno non è detto che debba essere assorbita la tutela la tutela dell'altro quindi insomma mi sembra che dopo la plenaria comunque una riflessione sul proprio della perdita di chance di aiuto amministrativo si stia comunque svolgendo qui chiaramente do la parola al professore Follieri a cui affido il compito ricostruttivo ho fatto solo una piccola ricognizione come si dice dell'esistente grazie grazie a Maria Burzese presidente della quinta sezione del TAP della Campania do la parola velocemente al professore Enrico Follieri che dovrà stupirci con effetti speciali in 20 minuti con termine perentorio grazie professore va bene ma tanto noi siamo abituati ai termini perentori al giudice non si possono dare da quello che ha detto la presidente Mara Abruzzese e dalla giurisprudenza citata sono da questa giurisprudenza rilevabili alcuni elementi che mi hanno permesso di ricostruire quello che potrebbe essere il risarcimento d'anni per perdita di chance nel diritto amministrativo mi sembra qui per la responsabilità in particolare che noi stiamo ripercorrendo la storia della dottrina del ottocento fino ai ottocento primi del novecento quando si discuteva se il diritto amministrativo avesse una sua autonomia c'erano posizioni precedenti di soluzioni eclettiche cioè con l'utilizzo di una serie di discipline diverse dal mio diritto c'erano soluzioni secondo cui il diritto amministrativo era un diritto speciale del diritto civile ma si partiva dal diritto civile e c'erano poi soluzioni dovute alla personalità e all'autorevolezza di Orlando che riceveva in basso l'indicazione di Mandellini di un diritto amministrativo che ha una sua autonomia sia scientifica che di principi e che non può andare al rimorchio del diritto civile e questo è quello che si può ricavare da una serie di elementi che la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha evidenziato quali sono il mio intervento si articola in tre aspetti cercherò di essere rapidissimo un primo aspetto diretto ad evidenziare gli elementi caratterizzanti del danno da perdita di chance secondo se la perdita di chance sia giuridicamente rilevante e comporti il risarcimento dei danni terzo aspetto rapidissimo la quantificazione sempre che sia una perdita giuridicamente rilevante primo profilo gli elementi caratterizzanti della perdita di chance secondo me possono raggrupparsi in quattro elementi i primi due positivi il terzo e il quarto negativi i primi due positivi sono tra loro correlati e non posso che trattarli insieme anche perché qui ci troviamo di fronte a un rapporto tra due soggetti mi rifaccio al discorso che aveva fatto Neri il consigliere Neri ma che anche nell'aula l'ha fatto il professor Scocca e altri e cioè quali sono queste correlazioni violazione da parte dell'amministrazione di una norma giuridica formale procedimentale o sostanziale che disciplini l'azione amministrativa primo elemento correlato adesso questa violazione deve inibire precludere la possibilità per il soggetto che è in rapporto con l'autorità amministrativa di mantenere o acquisire un vantaggio perché secondo me anche se statisticamente sono numerosi e più frequenti i casi dell'interesse legittimo presensivo nelle gare eccetera non è escluso che possa ravvisarsi anche per interessi legittimi o positivi cito un esempio per tutti se ricorro contro io associazione ambientalistica contro la realizzazione di una centrale nucleare per la produzione di energia elettrica assumendo che sia un'attività inquinante vero o non vero non è importanza ora se viene respinto se viene accolto il ricorso ma nel frattempo si realizza l'opera perché non c'è la misura cautelare o non viene concessa questa possibilità impedire la realizzazione della centrale nucleare che è un interesse oppositivo viene ridotto all'ambito di una mira chance perché evidentemente dopo che è stata realizzata questa centrale nucleare impossibile pensare a una riduzione in pristino e voglio vedere il giudice che nell'ottemperanza dica che va abolita o eliminata questa centrale nucleare né è possibile pensare a un risarcimento dell'interesse al bene della vita perché effettivamente queste società ambientalistiche fanno valere un interesse che ha una dimensione tale per cui non può andare a limitarsi a un risarcimento insomma questo potrebbe essere un caso che forse potrebbe anche diventare attuale di perdita di chance per un interesse legittimo o positivo allora la violazione di una norma giuridica impedisce causalmente la possibilità di ottenere la soddisfazione dell'interesse a mantenere o ad acquisire un vantaggio se non vi è violazione di una norma o anche di un comportamento illegittimo immaginiamo al ritardo o immaginiamo all'omissione di un provvedimento dovuto se non vi è violazione di una norma la chance non ha alcuna protezione tutela perché è un interesse di mero fatto la chance se non vi è una violazione di una norma giuridica che riguarda l'azione amministrativa da altro punto di vista se non vi è un interesse che è alla base della chance non vi può essere una perdita di chance perché non vi è alcun interesse a cui aneli il soggetto quindi sono tutte e due necessari questi due elementi positivi dall'altro lato due elementi negativi devono ricorrere quali sono? l'interesse alla base della chance non deve trovare o poter trovare soddisfazione con l'azione giudiziaria o in altro modo per esempio un provvedimento satisfattivo perché se ottiene il risarcimento in via specifica questa possibilità non è più una possibilità è diventata una soluzione in atto e quindi ha ottenuto soddisfazione l'interesse cui anelava il soggetto e che sta a base della chance non solo quando vi è un risarcimento in forma specifica ma anche quando vi è un risarcimento per equivalente pecuniario dell'interesse al bene della vita anche qui non più può parlarsi di chance quindi i due elementi positivi devono necessariamente convivere con questi due elementi negativi perché se si ottiene soddisfazione al bene della vita in via specifica o in via risarcitoria non c'è chance non si può parlare di chance se è questo la perdita di chance è una situazione residuale riguardante esclusivamente l'illegittimo impedimento a poter far valere e concretizzare una possibilità nella ricorrenza di tutti e quattro gli elementi caratterizzati che ho esposto questo però dimostra una cosa la tesi eziologica per il diritto amministrativo non ha alcun senso perché la tesi eziologica risarcisce la chance se ci sono probabilità che l'interesse alla base della chance possa essere soddisfatto in qualche modo ma se può essere soddisfatto questo interesse si risarcisce il risarcimento danni per la perdita dell'interesse materiale al bene della vita non c'entra più la chance la chance è alle porte perché se noi andiamo a vedere invece il risultato andiamo a discutere sulla probabilità non più sulla possibilità che è una mera chance appunto e allora a mio avviso non si può pensare che quando si va a parlare se la probabilità poteva o meno essere riconosciuta eccetera in che misura avrebbe potuto ottenere successo questa chance si sposta il fulcro della chance dalla possibilità alla realizzazione dell'interesse materiale e si fa un'operazione a mio avviso non corretta perché quella probabilità il grado di probabilità eccetera tiene all'interesse materiale al bene della vita nella sua essenzialità nella sua possibile soddisfazione e quindi è un'altra cosa allora è ontologica ma se vale la teoria ontologica domandiamoci questa mera possibilità che non ha attinenza con la realizzazione con la probabilità di realizzazione è un interesse di mero fatto o un interesse che è rilevante giuridicamente ed è tutelato e qui abbiamo la cuore del problema allora dobbiamo passare al secondo punto del mio intervento e cioè come è giuridicamente riconosciuto e come è rilevante questa chance e perché se ottiene tutela io credo che dobbiamo rifarci a un discorso volto volto a considerare quelli che sono gli interessi procedimentali o meramente procedimentali c'è Giannini definì questi interessi come quegli interessi nei quali si valuta e si giudica intorno a pretese concernenti interessi della vita cioè sono da ritenere posizioni soggettive che hanno ad oggetto situazioni e vicende del procedimento fatti procedimentali intesi come comprensivi di tutte le regole formali procedimentali e sostanziali che disciplinano l'azione amministrativa questi interessi procedimentali il giudice amministrativo li conosce benissimo perché sono quelle violazioni di carattere strumentale alla realizzazione dell'interesse al bene della vita che sta a base dell'interesse legittimo o anche del diritto soggettivo quando si confronti con il potere autoritativo ma la questione che io voglio sottoporre qual è questi interessi procedimentali hanno una loro connotazione autonoma dal punto di vista concettuale perché sono una cosa diversa dall'interesse al bene della vita a cui aspira il titolare dell'interesse legittimo o del diritto soggettivo hanno una loro autonomia e l'ordinamento giuridico ha già ha riconosciuto una loro tutela autonoma quindi sono concettualmente autonomi ma hanno anche una loro tutela autonoma in quale norme articolo 17 della legge 15 marzo 97 59 che ha delegato ai regolamenti la previsione di forme di indennizia automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedendo il provvedimento in caso di violazione di ogni tipo di interesse procedimentale l'articolo 28 del decreto legge numero 69 del 2013 che ha introdotto il pagamento anche se per un tempo limitato è di 30 euro per ogni giorno di ritardo nell'adozione del provvedimento per la violazione delle norme sui termini di durata del procedimento c'è una legge regionale quella della regione toscana 23 luglio 2009 numero 40 che sulla falsariga ha stabilito che ogni la corrisponzione di 100 euro per ogni 10 giorni di ritardo fino al massimo di 1000 euro quindi nel nostro ordinamento c'è un riconoscimento della rilevanza e tutela di questi interessi procedimentali che ricevono la previsione di una sorta secondo me penalità ma sanziono quello che sia ma comunque del pagamento di una somma in denaro ogni volta che l'amministrazione violi queste regole procedimentali a prescindere dall'interesse al bene della vita perché l'importo è forfettario sia che si tratti di una grossissima questione economica sia che si tratti di questioni bagatellari l'importo è lo stesso quindi si risarciscono si si stabilisce una regola perché la violazione di queste disposizioni di per sé rappresentano una necessità di ristorare il cittadino che deve e ha l'interesse a pretendere che queste regole siano rispettate io ho sostenuto in tanti scritti a partire dal 2000 una decina che qui non sto a dire che si è in presenza di una situazione giuridica soggettiva autonoma diversa dall'interesse legittimo e diversa dagli diritti soggettivi che ho denominato interessi meramente procedimentali ma si può non condividere tale tesi ci mancherebbe però è innegabile che l'interesse alla legittimità dell'azione amministrativa riceva tutela autonoma tramite il pagamento a favore del cittadino che risenta di tale violazione di una somma di danaro spesso impropriamente definita come indennizio ebbene arriviamo a noi la chance negata è protetta dalle norme giuridiche sull'esercizio dell'azione amministrativa la cui violazione se non porta la lesione dell'interesse legittimo o del diritto soggettivo che fronteggi il potere autoritativo per non essere consentita la soddisfazione dell'interesse al bene della vita apre all'azione risarcitoria per perdita di chance il pregiudizio della chance quindi è giuridicamente rilevante perché l'amministrazione ha violato il dovere di rispettare le norme sull'esercizio dell'azione amministrativa impedendo inibendo la possibilità che l'ordinamento tutela direttamente in caso di azione illegittima insomma la violazione degli interessi procedimentali è strumentale alla soddisfazione dell'interesse al bene della vita ma se il titolare dell'interesse o del diritto soggettivo non raggiunga tale risultato tale violazione non resta senza conseguenze giuridiche perché l'amministrazione ha il dovere di rispettare le regole che presiedono all'esercizio della sua azione e il venir meno a tale dovere non può rimanere senza conseguenze giuridiche se non può portare alla soddisfazione dell'interesse al bene della vita voglio sottolineare una cosa che a mio avviso è importante ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 octis della 241 del 90 sappiamo bene che non è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul procedimento sulla forma degli atti qualora per la natura vingolata del provvedimento sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato attenzione ma qui le violazioni di tali norme comportano comunque il risarcimento per perdita di chance che è protetta dal mancato rispetto di ogni norma anche meramente formale e procedimentale sull'esercizio dell'azione amministrativa non sarà possibile annullare il provvedimento ma perché perché l'interesse finale ha una certa sua storia ma se la chance lo si sgancia dall'interesse finale come deve essere e lo si considera la possibilità di raggiungere un certo risultato evidentemente questa limitazione dell'articolo 21 octis non può riferirsi alla chance quindi la perdita di chance è lesa sempre quando l'azione è illegittima per qualunque vizio e direttamente perché vi è un ineludibile nesso di causalità dal momento che la violazione accertata delle regole che presiedono all'esercizio della funzione amministrativa conculcano la possibilità di attingere al risultato sperato e allora che danno è? è un danno certo non futuro ed eventuale perché l'interessato ha perso la chance e questa perdita tutelata di per sé dall'ordinamento impone alla pubblica amministrazione di osservare le norme che disciplinano l'esercizio del potere e va risergita ultimo profilo se mi date tre minuti ancora la quantificazione scusatemi mi rendo conto che forse la quantificazione per quantificarlo occorre prendere in considerazione i due aspetti fondanti della perdita di chance e quali sono? uno l'abbiamo già detto il bene agognato di cui l'interessato ha perso la possibilità di ottenere e due la violazione degli interessi procedimentali partiamo dal bene agognato allora la quantificazione deve partire dal valore di questo bene ma può mai essere risarcito l'intero importo di un bene solo agognato una mera possibilità allora evidentemente va graduato e come va graduato certamente equitativamente ma in base a quali criteri ecco entra in gioco l'altro elemento correlato al bene che di cui l'interessato aveva una chance e qual è la violazione delle norme allora la quantificazione va operata equitativamente in una percentuale considerando il tipo di violazione se solo formale procedimentale o sostanziale in cui è in corsa l'azione amministrativa perché questo lede causalmente la chance due il numero delle norme giuridiche non rispettate tre la gravità in sé delle violazioni quattro la durata del comportamento non conforme alle regole cinque la buona fede sei la rilevanza della negligenza e così via in una visione a 360 gradi dell'azione amministrativa io credo che questa ricostruzione ho finito che questa ricostruzione forse può ricondurre nei binari veri del rapporto giuridico tra amministrazione e cittadino nel diritto amministrativo senza andare al rimorchio di soluzioni che possono andare bene per i rapporti tra privati e non tra cittadino e amministrazione grazie grazie professore anche per aver rispettato i tempi ed essere stato allo stesso tempo profondo a questo punto penso di interpretare la volontà di tutti di rinviare il dibattito apposta alla seconda sessione visto l'orario pensiamo di riprendere alle 14.45 in maniera tale poi che massimo per le 15 iniziamo non dobbiamo superare questo orario altrimenti non riusciamo proprio in interventi successivi grazie grazie a tutti